Ok, penso che stia partendo adesso la registrazione, bene, I want to believe Va bene, va bene Siamo a San Sperate, sta all'interno di Summer Clash, ma uo' con ciò che pensiamo Ringraziamo il giardino megalitico per la bellissima location Sono, mi scusi Ovviamente Computer Point, Sardegna, Fire One, Skate Park La fumetteria Dark Side Ho già detto come fare una Space Skate Park, vero? Dai, lo diciamo adesso Spirings Cross, Computer Point Nel frattempo, un inizio molto gentile da parte di Interversivo Wow, le 6 step, FF1 Jaguar, Driver Pensavo, spaccato il pavimento, G4 FF1, Hell Swipo FF3 Quasi Flash, FF3 di nuovo Leggi Drive Può punire No, fa il Jaguar Swing, è un pazzo maiale F4, oh Andre, cerca, c'è gente che sta chiedendo un fuck Senti qui fuori, che era un fuck, vai Perché stanno facendo domande? Certo, chi è? Scusi Attenzione, FF3 F2 Wow, vengono in contraattacco, vediamo cosa riuscire a fare E Swip, vediamo se riuscire a portare in terra Ci riesce Ultimo piano Attenzione, si riesce ad alzarsi benissimo Ah, godissimo, FF3 Dive Back 1, 2 Oh, fa la malissima, ma non basterà E invece Sopra vive, reggiate e basta Esatto, esatto Attenzione, G4 Ah, se non avessi vinto prima, ma Simo, invece Wow Wip, ha il WS4 Entra il Godfit Boom, boom, boom E si due tutto Tranne le final No, no, top 8 No, no, top 8 Vince Mawel, il primo round 1-0 Andri, tu puoi fare il maiale E già trovare gli altri due stronzi Andri, sei tu la postazione lì street Vediamo se riuscirà a cambiare il campo giustamente Eh, sta bene iniziare Arriviamo iniziando ad arrivare le zanzarane Nella postazione FF1 L'avvento 4 E sweep Attenzione Iiii Prende il secondo Un pugnato Drop kick passo Eh, ragazzi Dai Cerchio, cerchio Cerchio, ragazzi L'esilio, ragazzi No Cazzi No, sono cazzi loro Devono loro disattivare tutti gli dispositivi Bluetooth È colpa dei tuoi giocatori Cavoli loro Se non vogliono questi casini Devono disattivare tutti gli Bluetooth Punta No, le regole sono quelle, Bruno No, le regole sono quelle, Bruno No, no Eia, eia Allevo Regole No, no Bruno Disattivare tutti gli dispositivi Bluetooth Io dico di farlo all'inizio di tornei, infatti Però No, ma è un PS di un altro tizio, infatti Nel frattempo, un giù, tre La disattivazione del PS di qualcuno Ha fatto un po' risentare mentalmente crepissimo Però Quando giocherò io Sicuramente disattivare tutti gli dispositivi Bluetooth E vi è attaccato al cazzo, tutti J.O. Swingo Sarà bene Metà vita se ne va così Non punisce adeguatamente Twin Feast non entrano Golotissimo Let's do it Vai È tempo di una fracca stand, brah No, non ha tirato Non ci ha creduto VS4 Giù 3 Ghost Feast Uh, entra sul J.O. Swingo Non è stato potenziale Speriamo che si riesce a fare DF1-2 E swing VS4 cazzo durissimo Entra lo slide di piccolino Eh, bellissimo 2FDF2 là 2-1 Clever Simo Vuole tirar giù Eh, attenzione Leg drop Finita la combo Vediamo se uscita il Maurizio Se ci sono cavoli amari Attenzione Boston Crab Attenzione Metà vita Guardate la cosina Ragazzi Dovete parlare fuori da qui Vediamo se il Maurizio riuscirà a recuperare Zanni 3 Con Ripper Pussel E Zio Eno E Swip Mattagazzo Il tuo girone è più difficile appunto È il mio secondo più difficile Però Il tuo è più difficile 30 volte È il mio Mattagazzo ogni volta Sbagliatissimo Eh sì Attenzione FF4 Capital Punishment Uh, dove raggiunge Wow, ultima idea FF3 Non si abbassa Bravissimo È Swipo È Swipo di nuovo DSP1 in Fc Farà malissimo Bellissimo Cresparmio energetico DSP1 di nuovo CDP2 in Fc Dai No, no, no Sbaglio Lui Swipo Lui Swipo Non ci credo Non ci credo Celsico Guardatemi Cosa si è mangiato Clever Simo Il sorriso Di Mauro Soddisfatto È un po' triste Per questa prestazione Clever Simo Madò Non lo so Non lo so Sì È già L'ho in impresa Non lo so Sì F2 1 Poteva fare Poteva fare tutto Clever Simo Andre Andre Non devono succedere queste cose Devono essere lì Prima che inizi la partita No Vai tu Devi andare a piedi Non ci stai andando a fare nulla Vai a prenderli A mano Per mano Se serve Ok Clever Simo Non so cosa si è mangiato Però so cosa si sta mangiando adesso Le mani Non ci credo Ora c'è L'altra partita Del Coso Però abbiamo visto comunque il level up di Zio Edo Che è stato veramente bravo Vediamo un po' E io Non sono io che prendo i punti Non sono io che prendo i punteggi Ecco Anzicora F2-1 Se ti caga in mano F2-1 L'hai fatta troppo presto credo Madonna Era tua eh Cacchio Simo Sacro joystick Trova un sicora 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 Ah è vero che a Zio Edo sta giocando il turno al 2 metri Oh Tadda Sono il giustico 360 Brava Giovanno Sarebbe bello sapere Sapere chi c'era nei gironi No No Saperli Così potevo dire qualcosa agli spettatori Chi è qua Ah 100 occhi Bello Vado Ripper c'è due volte in streaming Un pezzo di me Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7 Honest L'altra volta l'anno scorso torneo Ti vedo a vinto Quindi vediamo un po' cosa riuscire a fare Vediamo Se Ripper si è imparato un VG anti-Orso Visto la scorsa partita Attenzione Attenzione Il caschetto da battaglia Vediamo un po' Ragazzi c'è troppa gente Tu hai un culo di Dio Ma che culo madonna Come back king davvero Mauo esce nella fontanella Ragazzi Uscite da lì C'è troppo casino Di Dio Edo E' un po' di Dio Edo Comunque Andiamo avanti Un po' di Dio Edo Uh ottimo We Fanish Di Dio Edo Attenzione Non punisce Attenzione Attenzione Fai quello se tu avevi tipo Tutte le cose No Ce ne ha più Se ti sbatti a copiare le da Ansicola Te le fai Sta giocando Ansicola sta già giocando Wow Qui punisce benissime Vediamo cosa riuscire a fare Troppa Oh Gli ho schiafone Gli mangia il power crash Eh Si mette in terra E si fa violare Non è stata una ragione di idea Vediamo cosa riuscire a fare Uh E sweep Ottimo block Di Reaper Attenzione Boom kick WS4 Oh Il range Il boom kick Che prende a cross them up Boom 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 Le combo Quelle oneste Madò Scusate PG Ciccioni Porta questo Edo Tieni Tieni il kuma Però gioca meglio Portazione streaming Non so cosa succede Edo Cambia livello Cambia livello Edo Livello Uno Uno per favore Falcate Della Qua Grazie a tutti. 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 Non so cosa sta succedendo, perché don't you think... No, penso che Zed lo stia ammazzando in fretta. No, 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 no... No, 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 no... Quindi, quindi... è giusto. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Penso che... D2, no, 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 no... rincancellarlo e lo scelto a presto Volega ha giocato io prima, ho vinto da zero ma è una bella parte molto combattivo infatti potete notare che Bruno Curia non è aperto è una battaglia consolidata Volega ci sta dando dentro di tutto Ah non sfonda Qua ancora D2-2 1-0 per Bruno Curia Ah Bruno Curia Ricordiamo che tutti i pull sono FT3 Non è vero sto scherzando su me I primi 4 Si è giusto per fare il sit Regale puoi perdere tutto Si raffina amiche di informazioni Guerra in 2 Madonna Spesso vuoi fare un panzer Guardate Adesso arriva a mano Guardate Che chiucciare Arrivare a Muro Arrivare a Muro Si ci arriva No Shoryukandorato D3 D3 No 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 C'è il sito C'è il sito Un po' fiacco adesso Grega Prima stavo giocando molto meglio Un salto neutro Un salto 40 Antistap Un salto è bello 2-7-3 Ah qua entra prima Pugno Curia Bravo Un salto Un salto Un salto 2-7-3 2-7-4 No vabbè Un salto 2-7-3 Un salto 2-7-3 Un salto 2-7-3 Un salto 2-7-3 E Bruno fuori a Fava Bandi Luce di Sirio disperda le tenebre Un salto Grongo in postazione Un salto 2-7-3 Adesso Ci sarà Grongo Contro Cento Occhi O Cento Occhi contro Grongo Cazzo Merda Dio Cazzo Stavo scrivendo Dio Grongo Gondor Gondor Eh 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 Stavo commentato Voglio un'azzo Bravo bravo Intanto fuori Ami in continuativa Il dojo comincia a comandare Come tutto che sia Intanto abbiamo Cento Occhi contro Grongo Cento Occhi a sinistra e Grongo a destra O nei match Monetine Ti commento io Andre Dio 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 No c'è Cento Occhi Grongo in streaming No c'è E' messo io davvero E' messo io davvero del tabernico Davvero? Oh yeah Dimmi che è l'ultimo Per favore Scaldone Sì signori Sono convertate Scaldone C'è 100 Gronghi E' vero che c'è la chiappa Ma è tranquo A posto Grong ha 100 occhi Grong ha una vecchia conoscenza di te che Sardegna 100 occhi e una nuova conoscenza di te che Sardegna Vecchia Vecchia? Si Vecchia 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 Settaggio a tasti molto avvincente Chiedi se fuori mi sentono Così Mi sento al commento Mi sento Giulio Mi senti Giulio Ciuccia Ciuccia Ok Perfetto Tanto qua vediamo Fire 2 A che provo a dare qualche consiglio Sconsiglio A Grong A 100 occhi Steve Lee Lee Usa il bastardo Usa quella nottata del cazzo Tanto Steve Per 100 occhi I love Per Grong Love Low Low Comunque è Marshall Stretta di mano E' qua l'acqua E' questa E tu bevi dalla mia Davide Prendila al volo Prendila Si domanda il moschiato No grazie Devo giocare contro That other Mie Intanto Per ora Il pronostico si sta confermando Oh qua non entra il counter Quello è facilmente Mieperabile Ottima Punish Ok D1 2 D1 2 D3 4 D4 3 Qua non era il counter Quindi non start Ottimo Sta steppando bene Ma sto usando la mossa Sbagliata Oh qua bello Questi 1 più 2 Arriva a muro Sgarra tutto Forse l'emozione Forse no Non lo so Qua però Presa dalla stanza Powercrash che entra E' più che 2 garantite Qua entra bene lo starter Sgarra la Dragon Quest Grongo Sgarra anche la Punish Lì Qua entra bene con l'ultimo Punish 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 In carcetta Perché ha 1-2 Tutelo per No Assurda Qua è un attaccato Non voglia Qua è un attaccato Ha tirato un basso Non ha tirato niente Punish Con la sua Rejard Sgarra Sgarra Tanto Centocchi si porta a casa La prima partita Contro Grongo Questi sono stati i finalisti del New Challenge Dove si è qualificato come primo Centocchi ha come secondo Grongo Dopo una finale con Resed C'è due finali Perché si è ispirati anche nella winner final Dove è stato Centocchi ha fatto un po' di gioco Poi nella camp finale Grongo Ha fatto il Resed E poi Centocchi L'ha portata a casa Sì sì Gli ha fatto sfuggere PGG Sì Vai Sì Gli ha fatto 결개 Grato 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 Gotib Gli ha fatto l'amore di gronga entra tutta qua gronga posso dire che stava pestando 100 occhi rientra in guardia qua entra no 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 entra bene la rage art stop punish tanto qua b1 2 b2 b2 di nuovo b2 1 e non va d3 4 b2 eh giù 4 o 3 chiedo scusa chiedo bene chiedo scudo fa tutta la dragostanza a b qua tutto bene nooo questo è quattro 1 2 b2 1 approccia sempre con 1 2 quindi cosmos ovvero 100 occhi potrebbe tirare qualcosa più basso però va bene anche così entra bene entra bene entra tutto qua si perchè uno è garantito dopo un per l'altro qua minicombo c'è minicombo che potrebbe essere una bella combo dietro qua dietro due niente 1 a 1 il recupero di grongo si si 1 a 1 1 a 1 il risveglio del grongo è risvegliato il grongo attenzione il grongo da segni di vita la prossima è Hendrix in streaming giusto Hendrix vs el reaper attenzione uh qcf1 1 2 quello è 3 4 3 3 3 3 più 4 2 qua è tutta qua entrata in counter eh si qua tutta quanta l'ha presa 50 di danno attenzione no 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 e qua no fa in tempo a rientrare ma io mi chiedo lì in quel frangente se lui entra in da con senso quel per ezza oh chica bu non va non va b2 arriverà un altro b2 si prospetta un b2 a 4 adesso b1 a 2 b2 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 a 3 ah sentato a salta b b4 a 3 no non è finito eh si un trade che non dà vantaggio a grongo 1 a 2 hm d2 a 3 in counter combo muro combo easy oh oh quella era tra polaccia tra entra ancora qua la può fare eh eh non si tida aspetta 50 e 50 entra 3 in counter non concludo della combo a cosmos 100 chiedo scusa no no a quanto pare oh la drago questa fa un po' malino devo dare del potere al mio allievo dio edo il mio allievo orto e qua entra un 3 più 4 ma che fa 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 3 più 4 bra bra tanto questo madonna madonna 2 trade ha vinto la partita poi si la mettono di post ecco qua 3 trade 3 trade 3 trade e finisce la partita 100 occhi se la porta a casa 2 a 1 e poi penso che ci sarò io contro the tower oh devi andare a giocare in streaming Andrea ma davvero perchè? si complimenti sia a grongo che ha 100 occhi si sei un po' fuso Andrea si è un po' fuso Andrea si è un po' fuso Andrea si è un po' fuso si è un po' fuso si si ottimo pochi perchè B2 è safe non so come usarlo e poi si rende conto di quando B2 1 cioè B1 2 1 entra in gatto ma quello più tanti è molto bene ma è B2 1 si tanto Hendricks a sinistra Ripper a destra Ripper con inquadratura no allora Ripper a sinistra e Hendricks a destra a fianco ci sta zio ed è buon e porca Eva mi ricca non so poi dead hunter ha vinto a cento occhi 2 a 1 bruciateli il quadernino Schindler List la lista degli ebrei di Hendrix eh l'ho visto, l'ho anche commentato basta che giocano, lanciano monettina laschia l'allonisi ah lanciate la monettina ehi, fagliela fare, se c'è la prestazione libera perché senza audio? oh, ragazzi sto senza audio Lore, gli dici di staccare l'audio dalle cure dai, io ho 1 a 1 ma eliminarli tutti è brutto parla un po' si va bene mi sta scappando l'option ok diciamo solo ahio, schiaccia option premi option e la ferma di tutti i pad dio signori, probabilmente adesso potremo vedere assistere alla partita Ripper contro Hendrix sperando che dio voglia allora se mi ha toccato? cioè io ho fatto solo una partita si, ho vinto io da 0 mi ricordo se da 0 o da 1 a 2 mi ricordo che aprivo pure? si welcome to the king of iron fist tournament 7 intanto Ripper vediamo chi userà la nostra felicità io spero in un lance la sua felicità 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 Hendrix sta anche facendo finta di pensarci ma io comunque non lo sento l'audio no ma non è Kazumi Mishima intanto andrea 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 e non lo sentivo lì ora prima o no no non qua ora no si sente vai tranquillo si sente si sente intanto è iniziata Ripper con Jack perchè mi copia nel fare queste cose ormai andrea sacco a trastarlo si lo so si lo so lì anche 3-2 ci stava come puniziano si si è da 3-5 ff1 db db2 trottola ancora trottola presa presa generica no non è db ancora lì poi è ff d2 d2 d3 tutta la punizione e forse sul frey ci stavano arraggiate db1 fordguin attenzione Ripper torna all'incubo di Hendrix ah? ma è db1 df1 è meglio quello è possibile ff o b1 più 2 sia non arriva a muro ff1 ancora db1 full crouch 2 giù sta la punizione di Hendrix ff1 ancora qua è questo è punibile attenzione niente db1 a calcio giù sta punish rage drive debagger db4 oh df2 crash al basso bravo bravo marty ottimo df2 db1 ancora 1 db1 full crouch 2 no full crouch 1 1 df1 ff1 ff2 è safe db4 1 df1 db1 1 questo è 4 1 df1 1 questo non è 6 df1 2 d3 oh volano tigli sembra di vedere i men ff1 ff1 df2 ha vuoto df2 ha vuoto ancora madonna quanto sta attirando Hendrix basterebbe punire a quello e infatti df1 2 garantito come i ghiacci dovrebbe essere panni da 13 o da 14 in realtà l'intanto mi sa che ha vinto ho sentito uno dei suoi urli micidiali come sempre cf2 che non viene punito db4 df1 2 forse ci sta anche 4 da 14 oh df1 db1 1 bravo db4 d3 d2 non punisce oh madonna ff4 no no quella lì è una presa generica skippata qua non punisce prova la presa 2 1 1 ff1 df2 bravo qua non continuata skippa bene attenzione basso fb2 o df1 df1 qua è giusta sparizione qua è peccato lì df2 anche ff df2 lì oh yeah l'ha flottato malissimo guarda presa skippata ancora ricordiamo che è ancora la prima partita è una partita tiratissima qua un play 1 più 2 giusto blocca il play 4 o ff4 non so quella sia 3 senza niente presa generica no niente tigran oh the bugger 1 a 0 per rip bravo ripi 1 a 0 vediamo hendrix switch era per torna su seconda 2 no di solito adesso prende king però non penso che lo prenda perchè si sente ancora abbastanza arretto da usare i card riper sediti a giocare a pallone vuoi tornare alla schermata di selezione di livello? si hendrix spera in un livello aperto o in un livello più chiuso no allora contro i pg grandi serve un livello chiuso perchè tu puoi massimizzare la combo al massimo non esiste non serve no è lui che usa il play non è il pg c'è un backdash molto migliore rispetto al play dopo questa si adesso dovrò sfidare da tader in streaming che ha bene come direbbe hendrix ha il pene duro dalla vittoria penso contro brunofuria prima intanto 1-0 per riper poi c'è stato solo il cambio di stage Kazumi gioca in casa in casa di un altro ho un ottimo poking da parte di hendrix senza ormai aver letto riper non sembra ff1 e ff1 sulla tecrollata b3-2 oh 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 peccato questo è super mega scomperto il da bugger arriva a muro facile no sbaglia sbaglia vuoi che lì perché non ha sparato una tigra oh df2 hanno dato la rail drive giusto gli ha mangiato un bel 12 o 11 o 11 non so quanto diabile sia o o o o o o o o o 2 qua non punisce lì dovrebbe entrare con 2-1 lì non continua mai la scelta Andrew oh ufff ufffano entrambi giusto giusto no no si la schippo sbaglio non tirare D4 Sta andando forte il Reaper Madonna Tanto qua Volano voci di corridoio Arrivano info QCF2 Vabbè qua non si abbassa Qua non punisce Ancora punisce bene adesso Fly 1 più 2 Fly 4 1 2 Rage Art sotto frame Canon fa Sicuramente c'è stato un errore di input E Reaper seconda round Primo next point Per il macellaio Il becchino Qua si prende Non lo so una tartarugan in gialla D4 D2 a vuoto Non punisce con Df2 E Reaper un wayfada Sta pensando ancora alla vittoria del round di prima Hendrix sta approfittando Punisce bene Sbaglia Wayfata E 1 più 2 Con tanto discopro di Tigre Qua sbaglia il debugger Non punisce Hendrix Gli entra anche Df2 dalla lunga distanza Gli sta prevedendo tutte le prese Perché magari ci ha perso da DPU Però Non penso di avere il suo sicuro di 580 1 Sì però da parte da full crowd C'è molto Qua entra bene Ancora Manca poco Vediamo se Db1 for the win Reaper Slaggia le scarpe a Kazumi E Jack se la gode Signori adesso io andrò in streaming A giocare contro Del Nato Arrivederci Iscriviti C'è qui c'è il bambino, c'è il bambino, c'è il bambino. C'è il bambino, c'è il bambino. C'è il bambino, c'è il bambino, c'è il bambino. 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 C'è il bambino. C'è il bambino, c'è il bambino. C'è il bambino, c'è il bambino. C'è il bambino, c'è il bambino. C'è il bambino. C'è il bambino. C'è il bambino, c'è il bambino. 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 Dimmi che i secondi per una volta va bene. Dimmi che i secondi per una volta va bene. C'è il bambino. C'è il bambino. Bella. Robi! Mi sa che il secondo pg è... Maddo, si è bambino questo scuso. Si è... ormai il secondo pg è veramente... Eh, è qua. Vai su. Mi esce l'altra cosa, mi esce. Esatto, una bella domanda. Allora... No, mi dice... The sword... Is... No. No, era giusto prima. No! No! Si, cazzo. Lo modifico qua. Eh... No, questa è già. Era giusto. Non cambia il campo... 100 occhi. Con la sua prestazione ad un challenger. Nello scorso torneo nostro non si è piazzato per niente bene. Potrà sputtarlo molto meglio. Quindi cercherà comunque di fare il suo meglio, questo top 16 che arriverà. Io spero di piazzarmi sempre sul modio. Forever terzo. Ho terzo primo, arrivo. Allora... Ficca è coi... Eh... Come si chiama? I rieper... Sono tranquillo, raga. Ahahahah. Ciao, Luca nex! Che di ex non aveva niente. Eman soltanto portatore di morte. Quindi... La gentilezza. Penso che 100 occhi avrebbe dovuto prendere Dragon, un po' C'è contro... Quattro Robby. Golosissimo. Punisce bene Robby. Golosissimo qua Robby. Ui, trick! Eroe. Supereroe. Non punisce. Ronde in due non si abbassa, però non ci provo neanche. Oh oh, ragazzi! Robby sbaglia, ma sì! Si fa perdone da solo! Robby batte giù! Bello. No, era un brano specchio di reset, tra l'altro. Maiale. Cosmos se ne va via sconsolato. Quindi, comunque... Io non ho capito chi è che è primo nel genoma di Robby. Perché... Grong ha battuto a fai 2A. 2-0. Già. Questa è... Grongo ha battuto... C'è sto occhio? No, non ha battuto c'è sto occhio. Ok. Stava per succedere... Libarato. Esatto. Eeeh... Cosmos se si arrende dopo quella combo cicciona, dice... Vabbè, che cosa scaldano... che cosa scaldano l'ho vinto! Attenzione! Adesso c'è Bruno Fury a dettader, credo! No. No, Bruno Fury a coif! Oh, non puoi dirci già tutto che ce lo segniamo? Non pu... No, poi le altre cose non ce le puoi dire. Sì, 2-0. Sì, 2-0. Come la penna? Sì, ma non trovo la penna. Non c'era penna? Esatto. No, quando me ne sono andato io c'era, eh! Vediamo se a coif sta giocando, sono entro elettrici da... non finire. Sì, 2-0. Sì, 3-0. Sì, 3-0. Allora, bisogna trovare la penna, innanzitutto. Questo è il mio eroe. Quindi adesso bisogna scoprire come sono i cosi. Sì, 3-0. Sì, 3-0. Tu te li ricordi un po' in gironi a mente? O puoi andare direttamente su challenge? Non c'è internet? Non c'è internet? No, comunque, allora, facciamo finta. Sappiamo che Bruno Fury a... è con Bruno Fury, non è bello, è con Death. Sappiamo che Coif è con Death. La domanda è, nel ginone con Coif è Death, chi c'era anche? Eh, il ginone con Bruno è Death. È Coif. Cioè? No. Il Coif è con Death. Ok. Quindi? Se adesso mi dici tutto, sono contentissimo. C'è qualcosa, tu? No. Dei quelli in streaming? Ah, allora. Il foglietto dello streaming. Eh, non te... Il foglietto dello streaming. Eh, appunto. E' scritto qua. Ah, ti interessa fare i messi? Eh, Bruno Fury... No, Bruno Fury ha detto come è finita? Non lo sappiamo. Cazzo. Credo che si possa andare su challenge. Di ansicura. Vediamo. Vediamo. Davvero? Yes. Eh, infatti, magari, eh. Hai perso con Death? No. Ah, cacchio. Non potevi cambiare il secondo. Non potevi cambiare il secondo. Non potevi cambiare il secondo. Ah, maiale. 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 Oh, siamo in tempo. Siamo in tempo. Eh. Siamo in tempo. E' 20. Per me è viva, non lo dico, non lo dico Che cazzo stai dicendo? 100? Che cosmo se lo è? Eh, mi sono morto e mi ha detto Che cosmo se lo è? Che cos'è lui? Oh, anzi, per la pena farci sui tu, puoi fare una foto? Ma fai via, dopo che sei queste due storie No, dico, mi fai una foto così Ma che cazzo Ma sta cazzo Tu com'è andato a tuo girone? Sei l'ultimo immagino Eh, minchia, è un giro del cazzo È un giro del cazzo È stato... Eh, con la kuma, minchia, il match up è brutto brutto Ahah Sì C'è un cavo per pad No, minchia, ho paura Round 1 Fight Attenzione Coif the Tudder Un'altra sfida dell'antichità Amica Questo qui veramente è l'SDL1 Sempre, ricordi? Attenzione, l'emozione ha una voce WS3 Sarà una partita che durerà nove giorni DF3 DF2 goloso Uh, WS2 No, sono SDSS Sì, perché la DF2 Ah Golosissimo DF2 Aia Attenzione Bah, si abbassa, non si deve mai passare in BT Wow, l'ultimo l'operry Ottimo l'altra speranza per Coif Rage Drive Va benissimo al collo Elettrico Poi elettrico Nooo Doveva aspettare Doveva aspettare pochettino Troppo goloso Troppa fretta Tieni un po' Attenzione Rani in 3 DF4 DF4 FF4 Tu scherzi, è staffato Da... Da Lili Lili ha veramente un step magnifico È... Goloso Un step veramente magnifico Quindi contro i bici ma è veramente una mano dal cielo Vediamo un po' Ma in generale con tutti i bici a momenti Wow SF4 SF4 DF2 Ottimo punto 6-Z Uuuu Stai del Piston E Swipo No basta Non fagli fare lo shrink Che elettrico Vediamo Elettrico Rage Art Cannata Non... Non voleva farlo KO Ah, è vero Il tempo poteva aiutare Coif Effettivamente Ma che aveva più vita Andiamo un po' DF2 Comincia Benedetti DF4 2-1 Elettrico F4 DF2 DF3 DF1 Elettrico E Swip Presa Super Speciale E' la schiva Death Rage del Cannata Non pulisce bene Death Ho detto 2-3 2-4 2-4 Può essere 4 ma basterà per ucciderlo Oh Madonna Ci vuole credere I want to believe Coif deve fare l'impresa DF3 Elettrico per punire il DF3 Oh whiff ma non vuole fare il gol Non è Swip Non so cos'era quello Giù uno Cioè giù perché c'è uno per punire Per... Monterare DF2 Dopo lontano per punire Ottimo DF3 più 4 Riusci a prenderlo Vediamo se riuscirà a fare la wall combo Cicciona Fu Fu Ad Hoken No non te la tenta Troppo rischioso DF3 Beccuno Giù uno Ed Whiff Cosa? Sento rumori strani Ah ok Whiffa! Whiffa! Bellissima Beh Mi sa che è un 2 pari Easy così La... Pacioccone Death Pensava di essere Al sicuro con punteggio E invece un recupero magico Due pari Come ha fatto con il back 3 Non so neanche io UB Nel frattempo Vediamo un po' Back 1 più 2 F4 che viene mangiato dalla campana Per la ride coif Per non bestemmiare in tutto Il muro raggiunge Metà vita se ne va Ahia Non so se riusci ad alzarsi Giù uno Whiffa il... La Dokken DF3 Bravo E il sweep DF4 DF1 Eh si abbassa Non se l'aspettava 1 a 0 Eh vaffan cuffia Cazzo schifo Di programma titubante Però una bellissima partita di coif Comunque sono tutti incalzati e agguerriti come biche Si Si Ci manca joondel L'ultima partita dei gironi L'ultima partita dei gironi Stai nello stream Si Boom boom D... 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 DF2 Back 3 Swift F... 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 ..... I danni Non vede il basso Mi farà malissimo Eroe Bravo death Mix up Easy 1 Pares Vediamo cosa riuscire a fare coif Per uscire di rimasti Uuuh, che cazzo chieto! E' letto sui puniti della campana, c'entrava sul pianeta, meno male che... 2 drop, drop la combo! Beh, voleva fare il trigger, si è abbastanza arrivata a 3, ha abbastanza di fare lg, si è pentita la death, ma a death non si caga, o si caga tutto qui in mano o non c'è chieduta abbastanza. F4, df1-2, bellissimo, va a vedere l'alto, quello si scotete e il coin più punisce. Bellissimo, uh, Q1-1, uh, stonehead, la schiva death! F3, non c'ho F3, non c'ho F3, non c'è che lo tira al secondo! TF4, steppato, il... ma no, quanto... quanto... oh, Gioppa! Il coraggio di un KOEF! Ohhhh, no, cosa ha droppato death, non lo so neanche lui, probabilmente non lo so neanche io, effettivamente, però va bene così. Incredibile KOEF, in vantaggio. Il coraggio, è elettrico, doppio elettrico. «Boom U», skin karabonga, lo, 1-2, olé. Un bijou! Golosissimo! Bellissima punizione! I danni! Ma ho detto che devo fare un rucco per me la sede! E' qua! Attenzione! Il vecchio re dice la sua! Ma che panna questo! The King of Iron Fist Tournament 5! Return! 5? Eh sì! Eh sì! Vemora un maiale! Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7! Guarda Death! Tenta! Ci pensa! Lili è troppo stitubate! Scegli la sua lorda! Vediamo! Alla Charlie's Angels al suo cospetto! Puoi scegliere vai a knock this controlla come una prostituta! Quello ci sta che sia una donna! Alla Charlie's Angels! 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 E invece... Vediamo se Death con questo cambio tattico riuscirà a fare... ...intrerrò a... ...the co-inf! Round 1! Fight! Oh, nel torneo c'è torneo Eh, sweep Eh, 64 Penso che questo ti trovi meglio con Jowling E con Lily Elettrico No, troppo elettrico, sto rete, non ci credo che è entrata Vediamo S34 Vediamo Quella, mi ricordo che non c'è 0-10 Ma non c'è 0-10 Elettrico Elettrico Vado Motto così Pum, pum Che di bim Che culo Cosa stava droppando Rokoi No, si trova molto peggio con Lily, lo sono sicuro Invece Un personaggio che attacca molto, lo si trova bene perché può fare Df2 a cazzicuro Quello non è più perfetta elettrica, è il sweep È il sweep Senza 1-102, senza 3 Lillio la già domina Peccato Ginocchiatona Sentro il rage drive incoming Bravo, bravo Poteva fare la flash e non la uccideva Potuto uscire Sì Sì Però sì, sono d'accordo Cambio tattico che intripa più death che Coif Elettrico dove è entrato Madò La gentiletta domina Bravissimi No, è assento Non fallo Pick death Potrà fare il recupero della vita Sto dentro, non lo schifo Attenzione Cosa Sto dentro Mi ha preso Attenzione Il durello di Coif Ragazzi Stato a giocarci con i fili da cavallo Vado No, mi sa che si dice Lillio davvero Mi imbarazzo Attenzione Guardate lì Fai due A che si sta fare le mutande Per il suo foglio di team La contentezza Comuna Comuna Grupi Oh, è tornato Best Mishima Esatto La partita Death deve chiedere più in Lili Secondo me Coif Dentro del tendone Ancora Sta uscendo La caduta Degli eroi La top 16 Sta instant iniziando Ragazzi Vorrei sapere qualcosa di più Qualche match Succoso Da commentare Madò Death undercoif Vuoi metterlo in streaming? Cazzo Ok L'onesto Eh, ma Attenzione Se mi dici tutto Lo scrivo Vai Vai poi Commenti Non è ancora finito Il torneo Eh, devi dire Sono 16 persone No, 8 round No, non per lo streaming In generale Perché? Ok Ok Detta Deve Ok 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 Non ci credo, Bruno Furia, primo del girone. Perché siete tutti a due vittorie, Death. Eh, però, 2-0, 2-0. Vai, Bruno, fatti il divino, il durello. Mi ricordo, Bruno, old school, ragazzi. No, no. No more clones. Non lo fa, non lo fa. Eh, sì, ma che... Lo lie. Comunque... Ha sbagliato. Ha sbagliato. Ha sbagliato. Sbagliato... Un po' di amore. Un po' di amore. Un po' di amore. Oh, finalmente! Ho finito di pranzare Nel ginone dove c'è Grongor, Roberto, Centocchi e... Ok, in 108, Roberto e Grongor hanno vinto più di 3 e 3 e 3, due in po' vincere Sì Robi ha battuto Grongor, Grongor ha battuto... Grongor ha vinto più di Roberto, Roberto ha vinto più di 108, Centocchi ha vinto più di 3 Sono tutti e tre amparimenti, perchè va a scalare Dipende da come hanno perso Fatti in set Sì Sì Non lo so, c'è scritto su Cialonger E non c'è Cialonger Non c'è Cialonger Non c'è l'acqua Ah, la cosa devo chiedere Sì Uno, due Vai I set, devi contare i set Ok Quindi tu tu dovresti essere primo, quasi Ehm... 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 No, e ci sei già... No, sei per forti... No, è facile, perchè tu sei arrivato due volte... Se tu non hai vinto gli hai stuprati, 2 a 0 E quando hai perso ti sei opposto Quindi è il miglior punteggio possibile Tre pareti Gli altri non lo so Ehm... 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 I set Ehm... 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 Esatto Ehm... Ehm... 3 set 3 set 3 set 3 set Perché un set l'ha vinto nell'altra Ehm... Fai... Fai 5 set L'ha vinto 5 set Sì... Ehm... Nooo... 5 set in totale ha vinto Porco satan L'ha vinto 1 a 2 a 0 1 a 2 1 a 2 Ehm... 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 Roby com'è andata a te? Come sei andato tu? Come è andato il tuo girone? Ehm... Nooo... Come? Ehm... Ehm... Nooo... In generale Roby come tu sei andato? Ehm... Ehm... Quindi lui è secondo Ehm... Sì... Certo Ehm... Ehm... No... Ehm... 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 Erro... Si Lui è primo! Primo grongo, tu secondo e terzo c'è tu? Sì... Perché lui è cinque e un coi, lui è qualsiasi. Non lo conosce per niente Akuma si E Nina si E Lizza Katarina Ruby è una guerra Non facciamo le principesse Guarda quel pezzo di merda di Di Martino Oh guarda che primo death Ti ha battuto C'è un errore nel challenge Nel challenge era segnato A che tu avevi battuto a death Eh vediamo adesso Devi vedere il numero di set vinti Devi vedere il numero di set vinti Totale di tutto il tuo girone 2 a 1 1 a 2 1 a 2 No Ne hai vinta 2 a 1 Il tuo girone era da 4 Cioè erano 3 partite 2 da Contro death Quindi 2 a 1 2 a 1 Tu hai fatto 2 a 0 2 a 0 E poi l'ha persa 1 a 2 Quindi dovresti essere Primo Lui E lui come ha fatto Koif E Koif E detto cosa ha fatto Ehi E lui avrà fatto 2 a 1 2 a 1 2 a 1 non l'avrei cambiato non l'avrei cambiato il giro è lì con me perché lì è anti-sigma ah e vabbè attenzione dettone vuole fare l'eroe dopo sei contro non lo so non ce l'hai no ce l'ha tutto ansicola non so neanche io contro chi sono non so neanche io contro chi sono ma porca lo sa tuta ansicola cosa il buy FT2 fino alla top 8 oh schiedito c'è tuta ansicola ipotetica vediamo se fai 2a seguirà il mio consiglio di prendere eliza contro koi perché koi non conosce molto eliza se usa akuma se usa akuma e nina akuma no no manco poco cazzi 30 volte più cazzi 30 volte più cazzi si è molto più varia nina nina c'è oppure nina se qualcuno mi scappa non lo so nina williams non lo so spero io ma dove? che ti faccio? beh 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 si becca un qua un primo sulla becca cazzo eh esatto vabbè chiedi a kiko che ha perso il buy nina contro katsuya koi dopo la prestazione magica che trovi miei allora dopo la prestazione magica koi dovrà fare buttare giù un altro top 4 l'olimpo lo attende il suo posto perché dopo aver battuto mauo nello scorso torneo vorrebbero che lo rincontrasse però se batte anche Robby vuol dire molto vediamo 3-4 bf2 elettrico ragazzi state rompendo il cacchio adesso si bello non è in controattacco giù uno e sweep ottima block di Robby non ci vedo che fatto uno e sweep manco poi sbaglio e finisce così la partita vediamo cosa riuscirà a fare f2a f3 df1-4 dietro 4 easy prey non sepa attenzione db4 df2 sonhead attenzione tetra tech trap f4 df4 madonna non l'ho visto neanche vediamo uno pare vediamo cosa riuscirà a fare uh patatona che la titolo scaccia nelle palline madocca df4 f4 a cazzo dura solo l'init non è stato gentile boom boom vediamo i danni ciccioli metà vita ultimo rialzo di Robby easy prey for game ok elettrico madonna il coraggio f4 db4 df2 si avvicina più in pista sul secondo sulla pista perché sapeva che comunque era tutta sul lato e ne entrava ragazzi dica di se sono il grip madonnina evidentemente no personaggio piccolo uh slide Robby inizia col cazzo durissimo cercando di recuperare questa partita non arriva sul muro le uh sui piston potrei punire meglio ma va bene così QCB ti ricordo la sua arma segreta attenzione sul muro gli danno i ciccioni non riesce a risplattare meno male slide e sweepo adesso rage dive e sweepo palese figlio di paloso e sweepo piccolo f4 easy prey non posso stappare sul muro ovviamente 2-2 bf4 bellissimo numero giusto così due pari vediamo un po coif ne ha non so cosa ha fatto coif in questo allenamento a a carboglio però i danni ciccioni attenzione giù uno ad hokern sarà l'olocauto adesso vediamo cosa riuscire a fare se farà un recupero magico giù due waterblock elettrico raydrive tb4 oh waterblock predictable po' non me l'aspettavo da robbie si abbassa sul muro ma non se l'aspettavo evidentemente ora oltre p um in un po' se coi riusciva a battere robbie Wow F4 F4 Db4 che traccia Dietro 4 G2 Don Ed Non riesce ad entrare però Attenzione Df4 di nuovo G2 Wow QCB Che bello Dropa F4 Le palle di Robby Ragazzi Non salite più del dovuto Df2 Wow QCB La paura fa 90 F4 F3 Calcione in faccia Grigio un po' Lo streaming Giusto così Penso che la Capture Card Stia facendo gli straordinari oggi F3 Slide piccino Qui piston goloso Peccato Robby non tira Però Robby sta carburando Assecchiate Wow Ok Tanta Metà vita Stia vicino Stia vicino Un malaurice salvato Credo che comunque Ehm Ah non so se le più se la bocca Tutti o vedo Veleno No Troppo goloso Easyplay non schiva Ehm Non poteva schivare dopo Df1 Df1 No 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 forse df2 Adesso mi sto smesso No no df1 E sweep lo pala Robby non ci credo Sta parlando Robby per i bassi Secondo me dei Robby per i bassi Sono cachi per tutti Imaggio QCB con un SF3 Droppa la combo F4 Ehm Golo Ehm La golosia Passami via E sweep Robby per i bassi ragazzi No oggi allora sono cachi per tutti Le Robby per i bassi Vuol dire che non ce ne sono Tutta per puby Easyplay Prenda cicciona E finisce così Vai a nanna Mica pizza e funghi Voglio sapere Come stanno Vorrei sapere cosa devo fare Penso che tocchi D'età da 100 occhi Vai cerca sicola Cosa devi fare? Vai cerca sicola Sta ancora giocando Oh Marco Trova Detander C'è Tocchi Detander C'è Tocchi Dei trovare Madonna Come sta giocando Contro chi sta giocando Con Death Allora ha già perso Detander Ah no Forse hanno Perché hanno sbagliato Ha sbagliato da miei nomi Ok Oi Andate sullo streaming Allora Detander Buonuncuria Dobbiamo aspettare a Kiko Stai Stai giocando Capito Già Gli ho detto Sì ma infatti Abbiamo fatto queste apposta Per il giro Non ne abbiamo ne chiusate In teoria In teoria Posso andare Su allongere Se mi ricordo Del nick Vediamo se riesco a trovare Vediamo se riesco a trovare Ansicora Ft2 Dalle semifinal Allora 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 scopritemi quando finisce druga instant come si faceva che palle e vabbè Vediamo Ok ragazzi Ho trovato Ho trovato tutte le cose di challenge Ehi Giulio Sono forti please Non ho porti please L'ho appena visto Chiudiamo la E' come faccio Oh i Detader sta giocando In streaming Detader sta giocando In streaming Non lo so Vai a chiedere Ma in teoria no Bruno Ma tu hai giocato contro 50-50 Si è intrepato Che cosa è successo Perfetto Round 3 Fight Oh E non so chi c'è E' il torneo Che bello Saperlo così No Pensa fosse il riscaldamento Ragazzi Ragazzi Si scopre che la partita è vera Non è uno scherzo Anche perché sotto ci allonga E mi dice tutta una cosa Vediamo Si vede che 50-50-50 Non conosce E vabbè Chissà Non conosce Scusate per il disagio, ma nessuno dice un pene Wow, medio Eroe Eeeh, lo riprende a cross the map Wow, un altro attacco, farà malissimo Vediamo cosa riuscire a fare Bellissima punizione del Spring Kick 50-50, rivelazione di questo, profondamente Non ci riesce, Spring Kick Brainy Water Block Oh Quindi è vero, challenge è tutto fottuto eh Che cacchio è successo Ragazzi non so nulla Due pari Round 3 Da poco tempo, continuare contro Vorse Spero che la mia parte di giro ne sia salva perché mi piace Non è qualcosa Io sono andato su... Su challenge è mai cambiato Su challenge è mai cambiato La roba D'età del città di dove è uscito Eeeh... D'età del Bruno Scuria D'età del Bruno Scuria D'età del Bruno Scuria Vado Oh Che c'è il primo Dai di Dream Vai Andrei 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 André contro il VORS dovrebbe essere André contro il VORS a Rodrigo Ah, addizione Un più in blu contro Bandano Si Ma con Bandano? No C'è il telefono di André, fa scrivere di più perciò il c***o Non si sa mai che l'ho contattato qualcuno Allora, André a destra Siamo a sinistra Quindi l'altro è L'altro è Buon Buon Queda Tanto c'è una richiesta di final, non è differente Prendi il VORS Questa è una sfida maestro contro allievo Più o meno Giusto Andre? È una sfida maestro contro allievo Hendricks a sinistra Wors a destra Wors Paul Player Si sta avvicinando a Kazuya Potrebbe darmi delle gioie Però ancora non è il momento di caricarlo Di metterlo in torneo Dunque Anche io Oh Marco sai già chi devi usare Bene Rilassato Abbiamo già giocato quindi sai più o meno come gioco E ricordati che io so come gioco Quindi magari So che avete un po' che inizia Wors Attenzione Wors Cambio di nome No vedi madonna C'è stato un lancio di monetina spiegato qui di Hendricks Mishima Paul Phoenix Eh ragazzi Sono un ragazzo provato Wors contro Hendricks Pall Attenzione ai fly a vuoto Smasher potrebbero incombere Dimmi Marco Chiedi per me si può fare alla grande Marco Tranquillo Si parte D1-4 Subito punito bene Ancora Ancora D1 Anzi 4 E poi D1 Attenzione Ah 3 a vuoto C'è 3 Chiedo scusa Df4 D4 D2 Wors 4-4 Non si abbassa Secondo smasher come punizione Bravo Qua un po' io di sway Oh entra con B1 Ma non continua la stringa B1-2 Si abbassa bene Wors 2 Nice Full combo Arriva Muro Si ci arriva Non ci arriva Lancio la tigre Iman Si Bf1-2 Poi Wors E lancio Qua Qcf3 a vuoto Sul Jai Forse sul Jai Potrebbe provare No Qcf2-4 Arriva Muro Non arriva Muro Full combo La parte di Endrix Fa scelta Azzeccata Perché comunque Si Punisce bene Non punisce Non ci arriva Qua Giulio Un po' troppo Dendenzioso 1-2 2-0 per Endrix D1 Di 2 Fa full combo Ancora Warr running 2 Warr running 2 No 3-1 Medio 3-1 Medio di nuovo 3-4 3-1 2 No Lì 3-2 1-2 F1 1-2 1-0 1-0 per Endrix No grazie mille per il cibo Mi offrono del pane Dell'ultimo Un ultimo panino Salsiccia E altre cose ripiene 1-0 per Endrix Ricordiamo Endrix a destra In teoria dovrebbe essere in difficoltà Però si sta comportando bene Un Wors forse un po' intimorito Da suo maestro Tutta sodditanza psicologica Giulio ce la può fare Deve stare un po' più sveglio E basta I-13 Si puniscono da 13 E non da 14 O da 15 Perché ti scopri da 16 Sì Non è vero Non è vero Round 1 Fight E' un'altra cosa Non è vero Non è vero 1-1 già parato Reza B1-2 Arrivamo 1 Non arriva TF1 DF2 Farato DF1 2 Non è vero 3-4 2 Tigre Non fa Non fa Giusto Fa Miriadi di bassi Non è D3 Ma vogliono un D3 Generico Stai attenta Ancora Db3 Db4 forse Db4 Non ce l'ha giusto 1 più 2 Qua era splattato anche Non c'era il muro Hanno già sfondato due Due murate Si Db4 Df1 Guarda Db2 a vuoto Penso che siamo Qua cercando Qua non arriva La tigre E' un drive Blockata Assorbita Dalla power crash E noi abbiamo anche Tutti Come funziona Parada Help Qua arriva un muro Ma non continuo Stavo 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 Errani in due No Guarda Il danno Ma domina E' morto Non è morto Magic pixel Gli passa sotto le ghiambe Tunnel alla tigre Fessione La riviscita di Giulio No Non arriva un muro Smasher Duffato E 2 a 0 Per Hendrik Che se la ridacchia Chi deve andare in streaming Andre Bella domanda Non ci preoccupo Questa Andiamo a me andrea Dallo streaming Allora I copini Brutto 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 Non è contemplato Nel calendario Ok Magia dai pull complimenti no ha fatto no non l'ha splattato amore era lontano no 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 andres doveva succedere così Giulio ha sbagliato perché ha fatto direttamente BF1 B4 se lì Giulio faceva QCF1 BF1 B4 poi faceva QCF1 FF2 1 Andrea era a muro avrebbe potuto fare anche di nuovo FF2 1 per smontare tutto e poi come scendeva F1 più 2 per portarsi in vantaggio di nuovo Andrea se devi giocare vai tranquillo qua abbiamo FF2 A vado avanti Giulio vai chiedi vai tranquillo FF2 B4 Contro SCP Mawo Per 2A contro Mawo Per 2A che mi ha randalato prima Vai tranquilli, tranquilli Nina contro Kazuya Col terzo occhio 1-1 a voto D4 Non tira più dopo D4 Mawo F4 F3-4 dopo D3-DF1 Qua un Db3 Ok vi informo già che dopo ci saranno Bruno Kuya contro Ripper Intanto qua Mawo sfonda Sgiu Ottimo arriva Muro Di nuovo Ah Lui doveva fare D4-4 D4-4-4 Anche se c'è la Panic da F3-4 Ottimo Buono Mawo Qua Full crowd D4-4 E' uno E' uno Cb Oh yeah Passa sotto all'elettrico Tutto un buon muro Con tanto di scelta dopo Nel Rage Drive Ancora Trottola Porta in aria Non porta in aria Non porta in aria Però uccide Basta Prova ad arrivare a muro Per 2 Passa sotto un elettrico Combo Sì lì in teoria Dovresti tirare D4-3-4 Si può punire con un elettrico A quello almeno 4-14 Però è molto difficile Questo vestito Messe in risalto Le forme divine Quindi va benissimo Tecnicamente va bene Tecnicamente va bene Sta procedendo tutto bene Ma Mawo Con trofei 2A Non arriva a muro Sta un po' meno Aspetto un elettrico Qua D1-2 E' stato strano Che non abbia flottato Qua arriva a muro Non arriva a muro Float Ah lì non prende Qua passa Sotto al saltino Della Rage Drive 1-0 Mawo Ok va bene Mi ha chiesto Marco Se la poteva fare In film Marco no Dopo Bruno Furia Giochiamo più Bruno Furia Riparte E poi facciamo Io ed Ok In modo che così Andres se ne vuole fare un'altra Passa Se la può fare No perché La prossima è quella Andres Ok quindi si fa Vabbè Intanto qua c'è il cambio Di Fire 2A Su Akuma Switchato su Akuma Spirizzato un attimino Ma siamo ripartiti bene F3 In counter D4 QS1 F1 Saldo 4 Slemo Il 3 A Duchen 4-3 A vuoto Circo navigato Un colpo che fa Umi Amoroso GF2 parato Punito bene 1-2 Qua para Però rimani Full crouch Fira fira Si accolle F3 Annetta combo Il muro splatta Non ci arriva Mamma Tranquillo Splatta bene Shuriken dorato Che mangia tutto Credo che Rex È come Come un ciccio Nel McDonald's Una volta che andrà Ti mangia tutto Lo sai già Ma sicuramente Non è una raid Ma Forse una raid drive Proverà a passare sotto Una 4-3 Qua stava steppando Intanto 100 occhi Mi guarda Con fare minacciosi GF1 GF3 2 F3 Oh Blow Perry G1 B3 B1 GF4 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 Niente 1 più 2 Scelta dopo Dietrich ha parato Non punito da 10 Bella roba Spara Suryoken Quindi fa streccare La parra E va Più 8mi Bravo Ottima lettura Indurre Giacomo Player A sfruttare la parra Il day way DB4 F4 Forse 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 l'ho catechizzato troppo con l'esit qua sbaglia l'esit 4 a vuoto ah prova un... quello era un drawstash 3 per volare e hitarlo in round l'ha preso qua attenzione al d3 su di alto d4 non punisce df1 u2, dd4 u2 dd4 u2 dd4 u2, d4 u2, best trappola contro robo fa un culo l'esit df4, df2 parato punito bene non so, ce l'ha una punizione da 12 a Q no, non chiedete la punizione lascia giocare df1 u2, parato punito bene con ff4 u4, dd4 u8 dd4 u8, giusto così per indurre a tirare la ducca spara, splotta l'ex splotta malissimo d4, arriva bolla veloce bolla forte ovvero bolla volante chip damage a calzoni arriverà un'altra bolla a breve sicuramente sarà una bolla in aria infatti splotta ah, sghiarra la trottola d4, non tira deve stare attento ai colpi da... ah, d3 bravo Mau eh, è meglio usino vabbè, guarda dice 1 o 2 ok è buona due due tazzo stati con vabbè, stati con il giro qua è un vs2 seguito dal combo con df1 in chiusura qua ci stava un elettrico avrebbe flottato bene scudia qua era un vs1 per 2a qua c'è anche una barra probabilmente la porta a casa scusando la barra alla fine infatti ah, randellata micidiale che cazzo è finbombia 1 a 1 eh, Mauro soffre un po' a Q ma deve stare un po' più concentrato porca Eva non riesco ad akppare 1 o 0 te ne rendi conto? 1 a 1 1 a 1 ce l'abbiamo fatta è stato più impegnativo scrivere 1 o 1 tanto, forse Forse ha vinto no, forse non stai giocando stiamo giocando Hendrix contro sento un 3, worry, surely who can no zia 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 contro 50-50 50-50 ha fatto è arrivato a terzo non c'è 100 102 round 1 fight a parte giocare ah, d3 addo f1 4 6 la cazzo è andata con D1 qua non punisce bene si ricorda la punizione è namoroso eh f2 qua viene girato dalla telecamera ancora D1 F4 F4 4 elettrico D4 oh, non tira un Neopro 4 per esempio all'inizio non si non si non si non si non si non si qua non spruzza il salto da oh arriverà arriverà una D2 in volante oh parra la trottola round 2 fight f4 4 4 non punito qua vediamo una coma che solleva Matonella e va solleva Pietro di qua è fatta la colla a tutta un po' sessanta si combo da 4 diciamo che le tre 3 4 3 4 i due ridono perché cioè da ridere che pare in soldi ma che è sta trottata paurino qui 2 a 4 dietro 1 a 4 1 più grande non metterà mai trottola trottola di nuovo non non dà fiducia alla trottola oh è namoroso eh no 1 più 2 sbaglio ancora bravo t4 t4 ancora 3 1 1 2 coraggiosissimo fair 2a però sgarra no no t4 dietro ma non troppo non ita con 1 ottima scelta a parte di fair 2a dopo forza perché rimesso in asse sulla bolla dopo quella streppata 3 4 carica 2 barre 1 a 1 attenzione final final round quello non ci arriva spara bene desi bella combo da parte di fair 2a attenzione df1 f2 df1 4 mauo vince contro fair 2a e ora in streaming vi mandiamo bruno furia contro ripper tiene anche se ripsi biosi roi andrea fai un giro c'è il gozzei Duff, vabbè intanto non sappiamo ancora se il reaper sarà a sinistra, vabbè a destra no... è il mio di prima, non ho fatto in tempo eh no, stavo commentando era bella gel bravo mi sa di sì, devi chiedere a Kiko oh, grazie mille André hai perso Robby, per risfidarmi l'user vero? maledetto spero di no perchè è il loser, dai è il loser, dai intanto abbiamo il reaper a sinistra Bruno fuori a destra non 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 c'è una previsione da parte di Snake raper 2, Bruno fuori a 1 intanto vediamo un reaper che non sa chi scegliere sta cercando di counterpick sta cercando di counterpickare il suo stesso pg claudio la ora preparatevi per vedere la sacra dell'office dell'office non ma non ma il reaper sta giocando ora contro Bruno fuori penso che sia a top 4 sì, penso che sia ancora a top autowinner guarda 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 i tratti Guarda una sottografia Dp2 E' stata scampata Non arriva a Mura ma allo starbath Dp3 Dp4 All pick non mi inizio Dp2 Un orbital che passa sotto Qua non punisce Guardano i 3 Adesso arriverà un boss Oh entra che lo mangia Dp1, Dp2, Dp2 Non tanto di kick charge alla fine Presa generica 1 Qua orbita che non fa nulla Serie di float Presa scampata 2-2, metà a 0 1-2 Questa guarda Oppic, flotta Presa speciale, scampata Speranza di pochi Niente fase di studio Flotte Orbital Ma Dp2-1? Ehm, meglio anche Qua non arriva a Mura bene Lo punisce malissimo Spera Round 3 Fight Spera Flotta Bruno Puglia, niente Guerra nei 2 Guarda Presa normale Fai 3 Guardano i 2 ancora D3-1 Qua Flotta a Muro ma malissimo Potremmo remontarlo Powercrash Manatone in faccia Amo tolito Lars Capato la macera Secondo te Secondo te c'è Un cambio di Personale Che va a Puglia Andata Non ti sei Merto Attenzione Core Df2-1 Dp4 Un combo Arriba a Muro Flotta Niente Non arriva la spallata Non arriva l'ordi Si porta il mataggio 2-4 Eh Ecco si fa No No 3 Fa 3 3 Pesaggine di K1 Fai La round a 2 Dp3 Una bella spazzata Passa anche dopo alcuni orbital Qua arriva il basso Doppio basso Doppio basso Doppio per qualcosa 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 Si possa immaginare la partita Di lì Preca la race drive Un vuoto Presa speciale Per questo video Spara Non punisce Non salto Non si sa perché Combo dolorosa No Si Ottimo Bruno furia 1-0 Bella combo Si è salvato Con B1 P1 P1 Vediamo se Ripper Cambia a PG Solo selezione livello Eh si Meglio così Allora dopo Il streaming Lo recuperi Marco Devo recuperare anche Non farmi perdere tempo Vattene Round 1 Fight D4 D4 3 3 Non lo so È Sì 2-2 Ciao Di 4 Sì 1-0 B3, sono due 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 Buon danno Fingi a terra Ok Buon danno Siamo D4 Da 0 No 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 sta giocando di tre, soltanto con colpi ripo, guarnani tre, orbita, trese attenzione, entra la powercrush di major redrive, ottimo rifler, una a una, partitone signori colpi da una parte dall'altra, selezione pg, penso che stia arrivando un brian fury, per bruno fury prendo un fiori no, non leggo il labiale, quando agita le mani ti può sbattere le uova ah, ecco ah, io so che mancherà di tirare il brian ultimamente sta, lo parlando con benedetta a paruti lo parlando con benedetta a paruti ma non è vero non ci arrivo eh ston qua venga ok va bene ok basta che andrmi dai comment e abitare cambiare comment quanto bruno furia si è portato su una a zero scusa, non sto facendo formato sono da fare aspetto venire con me non gioco quattro counter non scusa non scusa non scusa non scusa ma non è facile dif2-3 la punta dif2-3-4 di carica non scusa non scusa sbaglia non arriva muro troppo ancora in vantaggio vado all'orbital schippa power crash sono punito entra all'orbital l'eroismo d3-2 braaaavo bravo bruno furia quattro d3-3 ti sento qua continua scrandella c5-1 quattro 3-1-1-1-1 c'è tra db4 1-2 qua non punisce subito qui non punisce qua full crouch c4-3 Ancora in vantaggio, senta l'orbital è salvo, schippa la presa, basso, arriva da un altro basso, non è in fatto E tira all'orbital! Grazie 3 più 4, 3 più 4 ancora, non finisce il whiff, ma flotta, scula un flotte e non lo scusa Gf2-3, parte full combo, arriva a muro Sbaglia completamente i tuoi piedi, però provo a recuperarla Presa 1 era quella, presa 1 di nuovo FF2 Attenzione, non arrivano powercrush, imparato, spara il basso ma non punisce il ripper, arriverà un altro medio 1-2 punizione, e Bruno Furia, 2-1, se la porta a casa Adesso vi lascerò al commento Hendrix, che giocherà qua, sarà Deathadder contro, non mi ricordo chi Beh, chiaramente, Deathadder contro Magu dovrebbe essere, ma dovrebbe essere top 4 dovrebbe essere Simo, me lo chiami Andrea? Hendrix, per favore Ah, devo giocare io Mi dico la tua stagione, che che lo guarda è? No, no, è già qua. Ci mo? Ma sei... Sei chi? No, no, non ci puoi capire. No, non ci puoi capire, ti puoi capire, ti puoi capire. Mah, non ci puoi capire che, non si puoi capire. Beh, non ci puoi capire. Ma non ci puoi capire, ti puoi capire che, non posso capire il giro, e ti puoi capire, io Ragazzi, forse qualcuno di voi avrà capito che stavo tentando sfudoratamente Bruno Furia Perché è sempre sfortunato nei tornei Per una volta che adesso c'è la ciccione Ed era primo nel girone Mi stava tirando giù anche quello che mi ha battuto Quindi sicuramente stavo tirando Bruno Furia, appunto Senza senza ma Però adesso ci sarà un meccione ciccione E così per una copertola, è vero Una Red Bull, c'è Se vorrei nutrimento Attenzione Il team CP Non so bene come stanno messi No Eeeh Mauo Ho partito negli occhi Vediamo Abbiamo un Maurizio Godlike Che ha battuto già Fire 2A Mica pizza e stronzi Sì Mi sembra una Coca Cola Stavo a vedere i soldi Dove è porco satan Mi ha ricevuto il portatore Quanto cosa? E' uno che si è sbagliato No, Marco è contro la Coca Cola Mi chiedo cosa sceglierà Death contro Mauo Ma penso che prenda Dunfist da subito Come ha fatto l'altra volta Che l'ha battuto così Vediamo Meccione ciccione Mica pizza e stronzi Dai Dimmi che si è aggiornato Ci allonge Ma si stanno venendo aggiornati I cosi di ci allonge Oh Jesus Ok 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 Bruno furia in questo torneo Nel challenge È dettander Bruno furia invece È dettander Oh Oh Looser Adesso vediamo La looser Ce l'ho tutta nel cellulare Grongo zio Edo Per due A Cento occhi Clevers Dovrebbe esser C Se vince Corp contro The Pussy Dovrebbe esser C Ristar contro Poi Ehm 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 Qua gente Qua gente Sì è stato un casino E Bruno furia di Stato il dettander 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 No non posso cambiarlo io Sono spettatore Comunque Uh Poteva fare Il Twin Piston UF3 TB4 TF1 Ragazzi Mawo Al vaccino Non allenandosi Minimamente contro Nostis Giusto così Esatto Però si sarà visto 30.000 volte So La Questa Lo detto Che non gli basta C'è proprio Sendo rumori Aiaioi Spadona Dopo Qua Stric Attenzione Speso speciale Muore così No No non basta Come back king No madonna E' un Df2 Contra attacco Uno pari Non si deve distrarsi Ff4 Deve stare a una certa distanza Che altrimenti gli arriva la spada Non sarà giusto Non sarà disonesto Ma Bella Deve proprio stargli molto vicino Così non può lanciare quello a bordo Df4 Sì è meno 9 però Vuol dire che è E' quasi un suicidio Tirare quella spada Lui deve stare Uberfermo D'altro tizio Però io L'avversione può fare quello che vuole Troppo goloso Evidentemente Ma non conosce le scoperture Però Un spasso leggero Questa quattro Questa è sempre troppo goloso lì Vediamo cosa riuscire a fare Lui il muro 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 Speciale Non morire come prima G2 Ah Gli graffia le unghie Lo smalto con i piedi Con le spade Quelle save DF1-4 Non si abbassa Il muro speciale G4 Slash Non è come Coif Io vorrei vedere una partita Coif Contro Death Sarebbe un po' bello Contro l'Egonofis Vediamo un po' Un 4 Un 4 Beh no L'aveva zaccato Però no Ho voglia di tepito Però non ho un'idea Oh C'è miseria porca Il risparmio energetico Chi l'ha inventato Deve essere resiliato da pianeta Ok Iniezione Ti metto alla posizione Per non c'erano quella strada Di sfoga Bellissima Pulizione di Death Fintico il whiff Non mi aspettavo Va sul muro I danni ciccioni Boom boom Ah solo di più È là Bell'idea Bellissima idea What the fuck Ma che cazzo 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 Df2-6 Vero E da vedere da quanto è Perché se è da 10 Df2 Non entra la Non è da 10 Df2 innanzitutto Lo scelgo è con la fada E non è da 10 Ha tirato qualcos'altro Che non ho capito E lo metto speciale ha tirato Non l'ho visto Cazzo Anche Dead dice Da cazzo Ragazzi Zappen Quindi secondo me Secondo me Dead ha tirato Ha whiffato Ma siccome ha fatto La rage Si è ingrandita Al kickbox E stava comunque Giato un anno indietro Non so che colpo era Però Df1 è da 13 In whiff Df1 On whiff È meno di 20 Frame evidentemente Della rage hard Oh no Tu hai l'integra Ah dove Df1 è da 13 Eh sono caffi Cosa serviva? Eh ma va Ma che va bello Certo che Df1 è safe Vediamo Vediamo Death c'è il vaccino Contro Mawa Sto usando Nocchi Giustamente Però Staccato Qua senta bene Se non conosce il PG Come io con Jack Però io la pennellano Hai vinto Hai vinto con tutti i torti? Sì Possiamo dire contro T6 Possiamo dirti contro T6 Non è vero Ma Oh clever simo Oh boke Sboccatto Sboccatto Uuuu Rage dave side step Ma guarda da lato No guarda Nello stream Dove sono trigliato Vieni una sedia Ti sede Robbio fai mai No vabbè Ecco la cava Mai Vediamo 2-0 ancora Poverino Non sa cosa fare Elettrico Padona Nella cacca fino al collo Ma il comeback king Deve nancere adesso Soltanto i fai eroi Fanno il comeback Wow Elettrico Non so dove Bellissima combo Bellosissimo Sento dei wipe stripe Da qua Rage drive Cazzo No Beh lo sapevano anche i morti Attenzione Sento rant La domanda è Ci pensa Mauo Oh Mi rubi lecce Attenzione Vediamo Mauo se ha trovato La soluzione In questo momento No È così il gioco No No Non è vero Mai Aio Oh Ma cazzo è Ragazzi Adesso giochiamo un bel gioco Stacca l'academy in e rimettilo dentro FIGHT Academy in e lo 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 Momenti Catattici Padona Lancia Non sarà bello Ma vuole un sacco da fare contro Nocchi E non si è Immagino Non si sia Mentre Non si è 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 Che cazzo c'è Scritto Pulse Eh ma io non ci sono dello swimming Da 90 giorni Che cazzo Non c'è 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 Dove Porco cacchio Devo cambiare OI No A parte Nella tua foto No Forse è quella Prima della finale No Tu C'è C'è Tocchi E C'è Dietro Sì Zobby Allora Te lo dico subito Manco per sbaglio Manco per sbaglio Ci siamo ancora La loser FT3 Non siamo minimamente vicini Al fare Top 10 Sì Ma proprio Per ancora 60 anni No Si Ho voluto fare UF3 Per fare il maiale Ultima speranza Round 3 Fight UF2 Goloso FF4 Per il proiettore Io ce l'ho fatto in più Per niente Ahia Elettrico Ma riuscirà O comunque a Convertirlo Troppa No L'uoperio Ottimo Boom boom C'è L'uoperio L'uoperio Ma c'hanno il cavacademy Non ho capito Vabbè Attenzione Warp Strike In canna Take Riesce a girarlo E forse Fincini Ci fa No Non ti riesce Warp Strike Incoming Ancora 3 Uh Metodo di Retride Il trade Ma almeno male Così Pagno di Nelico Che sia Il comeback Della vita E sweep FF4 FF3 Traccata di piede Siamo a metà vita Così ragazzi Sessione Elettrico Sessione Su tre Uh Back 1 più 2 Non entra Attenzione Dove fare Sento del run Non do poco Morto Ah Mortal Kombat 3 a 0 Io devo prendere la Coca Cola Madonnina Eh ma dove me la prendo Il bar Ok Aspetta però Mi serve qualcuno Qua lo sniffing In teoria No Ma dico Chi c'è adesso La spinta Eh allo scherzo C'è la defucendo Non credo Cos'è Sì mi ha battuto Vorse La defucendo Vorse La defucendo Mi sa che è fuori Dai giochi Adesso Non è ancora giocato Hai già giocato Hai vinto Nice Shit Io non so che fine ha fatto De Pulser Chi c'è adesso In streaming Eh già Sì Non lo so Chi se ne sbatte Sì Vuoi fare un giro di loser Zero Penso Voi due siete contro In teoria Voi due siete contro In teoria Sì Bello Quindi in streaming Vado io con Bruno Furia Chi va a fare lo streaming Però Il commentatore Trovatevi Coif Serve Coif Vai andare qua Fai commento No Ragazzi lascio un attimo la postazione in streaming Perché Fra poco Devo giocare Va bene Devo Prener a fare una cosa Ah davanti Guarda Ciao 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 Mi dovete dire i nomi Però Riscrivi tu per me Andre Salve ragazzi Sono Mau Come appena avete visto Dead mi ha scoprato con Optis E ora sono qui invece a farvi il commento Di per il prossimo Che non so se sia la winner o la loser Ora vediamo Chi abbiamo in streaming Chi abbiamo ora in streaming? Ok Aspetta che tanto Sì Rippy Digli di sedersi poi a Andrea e Bruno Secondo Chi è primo e secondo Tutti lo capiamo Perché non so se Fanno il lancio Con la moneta Tipo Ah? No 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 Perché ora sicuramente Decidono se uno sta A sinistra o a destra Era pensato che lo dà prima Così anche per i nomi Andiamo Vabbè per il tempo Li insegniamo Per capire che Guardate la moneta Non lo so E io sto messo E purtroppo Ah? Ok perfetto Purtroppo Optis Non ce l'ho E non ci gioco mai contro Quindi non so Non so niente Del PG Capito Ogni volta Infatti lo sto studiando Ho giocato un po' più passivo Del solito Infatti per quello Perché non sapevo Le proprietà che ha Il PG E quindi non so Quando mi posso mettere in mezzo Oppure aspettare Però la prossima volta Di scompiare in mezzo Oppure adesso con il season pass Bisogna sapere No ma infatti No ma infatti È stato bravissimo Fra Niente da dire Niente da dire Merito altissimo Ok dovrebbero partire Sono pronti Sì questo penso sia Per entrare nella top 4 Yes Dovrebbe essere Guarda Kick off E naturalmente Ti vedete La top 4 Aspettiamo Conferma Ok Ok Mi pareti adesso In winner final Quindi Chi vince Questo Oddio Mi confere Forse non so Perché io e Death Mi pareti adesso Dopo che ne abbiamo vinte due Hendrix e Bruno Ne hanno vinte Entrambi una Quindi ci deve essere Un'altra winner Diciamo In cui Quello che vince qua Affronterà L'altro Quindi chi vince a questo Affronterà l'altro Ora vediamo Credo eh No Chi vince a questa Va contro un altro Che poi affronterà Death Se ho capito bene Ora infatti vediamo Comunque Bruno Vuole usare Brian Notiamo che Stava Notiamo che Usava anche Kadun Si stava allenando Con lei Quindi Conoscenza del studio Potrebbe aiutarlo Ora Vediamo Fate di studio Questo Non mi ricordo Se si scopre Sinceramente Prova con FF2 Che Le power Si studiano Ancora Molto Poking Già Ma risulta Ovvero Bruno Si risulta Adattando bene Allo stile Di Andrea Sta scendendo tutti Insomma Fatti Per giocare Più Andrei Non sa che se Cv4 Si scopre La flash O almeno Dato 12 Cos'era del genere Quindi Poteva punire O meglio Spero C'è cosa Cv4 Qua lo matta Bene A vuoto Da tigre Ricordiamo Forse Evita Tama Mi sento Wake up Credo Però Bruno In rage È sempre Pericoloso C'è un Evita Il QP3 La fly E Cementa Oh Qua fa danno Ma forse Non basta Il tempo E In tricks Fanno un magic ball Più del primo round Lentamente Con il suo ritmo Sempre in tricks Gioca Molto di poking Di mandati a vuoto E decima Così Raffa Dell'avversario Però adesso Bruno Lo sta portando Palle a muro Perché Brian a muro Ha molte sfioni Però Hendrix Rieca uscire bene Con una serie Di F1 Di 1 Molto pochi in medio Punizione buona Da fare di Hendrix Interroppa la stringa Di Bruno Il muro Molto buono Qua poteva anche Chiudere l'app Perché sceglie Di scusare il vantaggio Per la pressa 1 più 2 Perché Bruno pure Non schiva Non rompe Stiamo già 2 a 0 Hendrix Ricordiamo ragazzi Che questo è FD3 Vediamo Bruno sicurià Prende un bel vantaggio E massimizza Amuro Avendo splattato Con F2 F2 è uno dei pochi colpi Drian Che riesce ad arrivare Una volta che Katumi E Amuro Adesso usa Lion indietro Oh no Non scusa Lo snake edge Non converte in juggle Però ha sempre Un discreto massaggio Di vita E switch da parte Di Hendrix Presa 1 più 2 E non si fa Ma non credo Si fatti a muro O era troppo lontano Comunque Rage drive Bruno furia Non ha rage Hendrix La usa adesso La rage drive Non connette Fa un chip damage Amuro E ancora vivo E Bruno furia Qua tirato Aggiorniamo Hendrix 1 Bruno furia 0 Hendrix ci porta In maniera molto Molto solida Questo primo match Infatti Bruno furia Pensa subito Al cambio PG Vediamo Si può prendere Chissà si Li ricontrolla Ma dovrebbero essere a posto Vediamo se cambia Eh Mirror Me l'aspettavo questo Bruno furia voleva testare Con il primo match Essendo effetti 3 Come il suo braille Si comportasse Contro Kazumi Usando a sin Kazumi Magari dice Può essere l'antidoto Al veleno Vediamo Io l'ho Io ho Affrontato Bruno Con Kazumi E non è niente male davvero Forse con Con gli stessi tool Che gli hanno fatto davvero male Può accantarli Vediamo Sarà un bel mirror Chiaramente Hendrix È molto più preparato Su PC Essendo il domain Esatto Quindi magari Bruno Potrebbe avere un po' di difficoltà A massificare alcune situazioni Ora vediamo Eh La Kazumi in bianco Il Bruno furia Per il giro di Hendrix Peccato Entrato in 3 di quel 4 Non ha puntato Il giro anche il primo furia Bella punizione 1-2 Poi è F2 Non lo so Ok Questo da vantaggio Non rompe ancora la presa 1-2 F1 furia Sì Run in 2 Che porta a casa Per Hendrix Il primo round Hendrix molto solido Comunque Rompe la presa generica Ancora con Poking Db4 Df1 Ancora Sembra un Poking Specchio Mirror Di nuovo Prova la presa Credo sia la 2 Quella Normale Comunque Se mi può schivare C'è con il 2 Non è command A sua volta Non la schiva Bruno Furia Per la presa 1-2 Di nuovo Dovrebbe splattare No Il muro è stronzo E decide di no Vediamo Adesso una situazione Forse un po' difficile Per Hendrix Che ha le spalle Comunque Non libere di muoversi Come vorrebbe Attenzione Non convergo Se c'è di un Df1 Sarebbe stato Meglio Attenzione Entra nella presa 1-2 Vediamo che cosa farà Rejar Buona scelta Che fa un discreto Danno dopo la presa Non ammazzerà Sicuramente Ma lo porta in vantaggio Ti basta un colpo Qua deve essere Bravo E Bruno Pari Ottimo Bruno Furia Prima will fare Poi entra Con la corsa 2 Pochino ancora Questo mess Avrà Questo ritmo Non credo Accelurati Di tanto Di nuovo Entra la presa 2 Di Hendrix Ha entrato all'alto Ha il person Assicurato 3-2 Parato Quello era Un D3 Credo Credo Sembra Un D4 Credo Sì Mi sky aveva anche Il muro Poi Cosa? Sì Di giù 2 Oh Qui potrebbe punire Forse meglio Anche con 1-2 Infatti Ciò che dicevamo Prima era proprio Il fatto che Bruno Furia Non è Non usando Kazumi Come Il principale Personaggio Magari è un po' Più di difficoltà A punire Oppure Fare le gioccoli In modo Flawless Diciamo così Però Oh Bel duck Ricordiamo Tanti che Eppi 3-0 Nel caso Endrix 2-0 Come credo Farà adesso Vediamo se Bruno Continuerà con Kazumi Oppure userà Claudio Che è il suo Il suo secondo PG per davvero Ha provato Kazumi Ma non è stata La soluzione Sui problemi Secondo me Con Brian Non stava facendo male Doveva continuare Con alcune mosse Che magari Lo premiavano di più Però Endrix È davvero Un muro Molto difficile Da buttare giù Molto molto difficile Entrami i player Concentrati Credo si sia bloccata La play Non credo Credo Ci sia il reset Vediamo Guarda Andre Per favore Se Sanno riavviando La play Credo Stiamo riavviando Il tutto Infatti Esatto ragazzi Purtroppo Stiamo riavviando Un delay Di un paio di minuti Ma niente di serio State tranquilli Torniamo tra pochissimo Stiamo riavviando Come stanno riavviando Be pubblicando Show Le det中 Come sta andando Kui? Chiedete a Kiko ragazzi Bene Siamo ancora a 2-0 per Hendrix Finalmente ragazzi ci sono Bruno Furia tenta Tenta il terzo PG Claudio Vediamo se sarà la risposta contro Hendrix Se farà il comeback da 2-0 a 3-2 Perché ricordiamo che Se Bruno Furia dovesse vincere Avrà il PG caraccio loco Ovvero non potrà più cambiare il personaggio Quindi vediamo Sempre più aggressivo Bruno Furia Hendrix Se gioca tutto spesso Mettere distanza e poi spire E racimolare qualche danno Wow Qua ha punito Punito La stessa di Hendrix Con un pick Attenzione Arriva Zio Edo Edo Mi deve essere caduto L'accendimento Ah no ok E' qua Tranquillo Oh Attenzione Ok perfetto Si era anerito lo schermo Uh entra la prossima Più due Ah bravissimo Hendrix Questo sarà tutta bene Proprio c'è la chiusura del round Ma no Non credo Ma si vinta Anzi Cambia di posizione Niente però Entra la prossima più due Perchè qua 1-0 Altri due run per Hendrix Per vincere 3-0 Contro un solidissimo Bruno Furia Ma andrebbe più lui Hendrix Di nuovo Sì Eh Bruno Non si fida da passarsi Sulla variante alta Perché Ricordiamo che dopo quello Cazzo può anche Usare un medio Che nel caso si prenda Fa abbastanza male L'off kick Non entra Punisce bene con la flash E il squib Noi ancora in vita Attenzione Trova l'off kick Eh no Si scopre quello 2-0 Hendrix Round 3 Unisce Ma non bene Hendrix Il basso Che si scopre anche Dal launcher di Claudio Sta giocando Molto bene Hendrix Bruttando Tutto ciò che può Contro Bruno E Bruno Non sta Bruttando Mini Juggle Da 3 colpi Che però fa davvero male Abbiamo Non per chi barra Cerca sempre il pressing Bruno Furia Ma Hendrix Si muove bene Anche di lato Evitando di essere Equipo a muro Di nuovo Potemmo Whispanic Quello lo poteva punire Credo Questa Claudio Ha un quadro Da per punirlo Si abbassa bene Sulla presa Bruno Furia In Rage Vediamo se Potrà andare A tornare In Drive Wow Bravissimo Beh Beita Può portare a muro E qua fa male Con la spallata Bruno Furia Non ci sta Non ci sta Sì perché La cosa migliore Lì non era Senza dubbio Abbassare Quello lo poteva punire Bravissimo Lo punisce Hendrix Questo possiamo Punire anche Dal launcher Bravo Di nuovo F2 Sono Ci tra Mi bagli altri Da parte Hendrix Può portare Il Run In 2 Ovvero Un F In più Non punisce Il DF2 E comisi Vantaggio Steppa Molto bene Non ha preso Uno F2 Che è uno Per lo so Forse Solo Una volta Sta prestando Bene Usa la Rage Drive Non conclude Tipa La presa Non ci sta Wow Incredibile Bellissimo Lo Perry Juggle Lo porta Quasi Dall'altra parte Dell'arena Non vuole morire Giusto così E niente E lo prende 3-0 Per Hendrix Che ha giocato Davvero Davvero bene Cosa? Certo Bravo Andre È stato Bravissimo Adesso Aspettiamo Kiko Vai Andre Chiedi Ora mani In streaming Un zioedo Giocherellone Qua dietro Appena è disponibile Senza portarlo Ok Andre Grazie Aspettiamo Intanto La prossima Partita In streaming Ragazzi Se dovete andare a fiannere da mangiare Ha fatto l'ora Poi? Ci sei tu qua Andre? Ok Complimenti bro Cavolo Hai giocato Benissimo 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 Dove va a rimanere con Brian E chiamare L'epis di cui Anche A livello pensare Secondo me A poco Magari Il profitto Che ci sta dando Problemi Può essere La risposta Ma Benissimo Benissimo Dove stai con Brian E le canna lì Proviso Sì Ok ragazzi Non si sa come Sono arrivati in winner final Eh sì Quindi Minimo minimo quarto Ma noi tentiamo A derivare i primi Come sempre Vogliamo il pane Dove mi ciulano in tutto questo? Grande Non è risolto il problema Attenzione Non ho ancora preso la mia casa Di coca cola Perché costa due Ok Ok Io non ho preso la coca cola Deve No Non posso Non posso Adesso si è inizionata la partita Però Oh Bei peni Ma Si è una cacca No, più che altro ho trattato, questo non sono chiudato What the shit is that? Ah, minchia Finina contro Scambio, un bel brindisi Il V2 è che? Il V1 o no? Cioè, chiedi all'anzico, non sa più di me che guarda Come cazzo stanno andando le partite? Non ci ho capito un cazzo La loser è tipo dietrissimo Ma no, perché non si vengono giocate contemporaneamente? Non cazzo Quindi Bruno Furia in finale, ma non è vero perché è pt Soprattutto, è bellissimo e fatto per buon colpo E abbiamo una ptoria Ogni tanto mi piace Ogni tanto che devo andare da gioco Puttana merda È pieno di tasti questa tastiera Attenzione Coif Grongo Non mi ricordo di aver mai visto questo match What the shit is that? Ricordiamo che comunque Grongo ha potuto fare 2A Quindi, secondo me Può dare le sue soddisfazioni Comunque, volevo dirvi che chi vince questa sfida Mawo Di nuovo Mawo Mawo Koi Oh, vabbè Bravo Koi Bravo Il Neutro ti fanno entrare tutti signori I veri eroi Sì Io vorrei capire Ah, Bruno contro Fire 2A Ok Poi ci sarà Superfinalona E poi ci sarà quella contro Cato Comunque, nel frattempo Back 2 Back 2 Bravo Eh, qui Koi Mi sa che Vuole fare il supereroe, secondo me 4A 4A Godfist Cannato Ti avvicina Non basta Db4 Elettrico Wow Eh Io voglio vedere Mawo contro Koiko Oggi voglio vedere Mawo contro Koji Cannato Motto Eh, no Non entra uno Non entra Due Due Ah, non è che due due Resta B1 Questa di Katsuya Sì Perché è un Un culo di questo tempo Wow No, no, no Io sono già alla prossima partita A meno che Grongo Non entra nella capa dei Sensi Il coraggio Di un flip che cazzo dura Dante a Koji Eh, vabbè E buttalo via Deve fare miseria No, deve fare più bassi E B2 Basta Elettrico Solo deve stare attento Al range Sì, giù 4-3 Sì, sì Beh, elastico No No, va bene lo stesso Il flip che cazzo Il back 2 Non so dove è entrato Pesagenica Riesce a schifarla Vediamo cosa riuscire a fare Il coraggio Back 2 Back 2 Merda Mi sembra che sta tirando Mi c'è Muote Bacchi di nuovo Non ci sto Oh, oggi si Le ray giard Non servono un cazzo No, vabbè Sono lentissime Mammi cia Vabbè Quanto c'è l'uno Di 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 In With Perché è meno 20 È meno di 20 No, non rallenta Il problema è È l'ultimo frame forse Di Comunque È Quello Mi trovi Atta l'off kick Ma non è la Non è a te No La loser è vattuta Ft2 Eh Lo so io Attenzione Si ricarica Coif Sì Ft2 Grongo Spensierato Non so bene Neanche in che Posizione arriva Se perde adesso Vediamo 1 2 3 4 Top Top 6 Cioè O 7 Vorrebbe arrivare Vorrebbe essere 5 Porca p***a E Sfai Laga E Sweep Se diciamo che Se devono seguire Il campionato Di Deltame Clash Di Grongo Minimo Minimo Troppo Come potenza Quindi Malbagio Si mette a fare I Gli Sper Attenzione Cosmos L'abbiamo perso Prima Immagino No Si entrava Lì Statue Bellissimo 6 Su 4 Round 2 Sessione Due round Della sconfitta Bravo Minimo Poi Un piacere Cazzo Corea E Sweepo E se uno tira tre volte Dragonà Perché Sulla posizione Giù tre Dbh2 Quattro Che Whipam Ca mia Cioè Se metti Il dare trasfondo A Cui Siamo Oh Giù 4 Per Finire L'avversario Every day Every night Round 3 No Non sarebbe So Pronto Vediamo Mawo Dietro Ok Guarda I due Contendenti No Che Cazzo 3 3 1 Più 2 Degli altri 2 Unisce Il Duro Elettrico Vediamo Un po' Cosa Riuscirà A fare Sweepo Bravissimo Cod Madonna Col Pay 4 Merri Ma Di Germania Bravo Si Rialza Bene Trongo 1 2 2 Presa Speciale Non so Dove Che Raggio Prespero Non è Tic 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 2 Mi dispiace Golosissimo E switch Bravo 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 Coi E a 2 Ft2 Oh No E top 8 La regia Mi dicono Che è Ft3 Noi ci fidiamo No E top 8 Però La loser Sì Ma siamo Un round Prima Della top 8 No Sì 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 Mauro Mauro Contro Coi Bella Quello L'ultimo Della top 8 C'è Bruno Furia Contro Bruno Furia Contro Mauro Vabbè Vabbè Sti cazzi Oh Andre Andre Ormai Bandita Oh L'hanno fatta anche prima Ft3 Ft3 No Ft3 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 Ah certo, che coglioni, giù, su giù Wow, madonna, il risveglio di grongo Deve fare più bassi No, allora recupera, vabbè Maurizio già dietro Come siamo? Come è orato? Ok, siamo di moda Sì, sì, no, è sempre sul carattolo, abbiamo fatto una cosa che rimane Oh, venga, madonna No, dovrà fare quello col calcione, che è curiosissimo Wow, il coraggio Che è da 15 quello lì, anzi, quindi è da un elettrico M4, e sweepo M4, e sweepo, tanto dove gli ha fatto 3 E sweepo, bravo E sweep Madonna Questa farà malissimo Ah, rejart, non so se l'avrei andata Ma se non mette le sweep di seguito, non hai le palle Eh esatto Bravo Vediamo Dillo di andare subito con Maurizio Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Vediamo Si preparano i due contendenti Vediamo Team CP Sta facendo il maiale Tutto a posto La domanda è Come sta andando Bruno Fraguea, ve lo sapere Oh, che cosa carina Quindi la top Alla fine stanno recuperando I top player stanno ritornando Comunque risalendo in torrente Sono contento Se hai i due contendenti Robi, Robi o Koi For Mauo Però Semi-final sarà Semi-final looser Semi-final looser Semi-final looser Mauo, Robi o Koi E la finale sarà E la finale sarà Non è Dato o Mauo Ma ho Ma ho battuto Koi Sì E la finale c'è E la finale sarà Robi o Mauo E la finale sarà Dato E la finale sarà Dato Ma Dato Dato E già Ok No, ma Dato Non è Final Semi-final Final è di più a Mauo Ma Fina ci so già Con Death Non Fina Winner La Fina Fina Ah, la Gran Fina Sabe bello Ci proviamo LOL Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7 Sì E' lì Si è arrivato prima In questo torneo Vabbè Dopo quello di ieri Nessuno mi può dire Il cazzo L'altra volta Attenzione ragazzi Questo si sentirà nello streaming Si danno la mano Allievo contro maestro Ancora una volta Ma il maestro Vuole tornare a dire la sua Kouif Contro Mawo With Punisher Contro L'ignoranza domina Vediamo un po' Non lo so Questo è un torneo A cazzo durissimo Perché normalmente a carbonia Anche coso Anche coach prende potenza Quindi non si vede da carbonia Perché sono tutte e due Incazzati come brucioli E' il doppio sweep FF4 No E' avrei fatto un altro FF4 Nel fraggolosissimo Non mi ricordo chi cazzo è rosa E' rosa sempre Il wave dash corea Il cazzo durissimo Vediamo Boom Bell'idea Tutto e senza vita Vediamo un po' E' skip doppio Fred no la skip Non la skip Gli ha fatto meno il cagotto Gli ha fatto canare la finestra di skip Grazie Non ci sono Il doore E' di Ne ha, ne ha di più Perché l'altra volta Mauo non era in forma, ma oggi è in formissima Caffè? Sono danni tre, ottimo lì Ereggito, carnato quello bello, e sweep, però c'è comunque a competire Eh già, e sweep Coi fa il coraggio, porco del clero Oh, scusi, scusi Wow, la Corea Ritorna anche, è stato passato la Corea Quello di volle volle, davvero anche così F3, questo dovete dire giù da qui Canna! Attenzione, forse non basterà Non ci credo, tech trap Non me l'aspettavo Experience Ma attenzione, coi, fa uno a zero Mi capisco i stronzi Come sta andando, Coso? Round 1 Fight Oh, grazie Eh, voglio un'altra di elettrico, F4 Wow, di B4, con un attacco, F4 elettrico Scicolosissimo Dragon, un affercato, non entra E sweep, bellissimo Beh, avrei fatto un S2, ma va bene, fronti Un po' classico E sweep, avrei fatto il doppio Di F2, want the duck Beat of the duck Bellissimo, sul muro Vediamo cosa riuscire a fare Boom No, guarda, sì, un attimo Si prende un round Ok, è lo stesso Fight Cosa, non ha fatto F4, vedi F4 F2 Giusto cosa Bello, ho preso il path Perché Eh, Vabbè Qui era, era cazzosa Cow, il filo Inezione Wow, le sweep Però la Corea Perché non è tanto A casa Due F3 Ah, vera cagata Sì Platificatonia aveva vinto un f3 da ruotato era nell'anno quel calcio e poi la becca di fuori f3 e svipo f4 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 soned la prende coi non mi ha aspettato f4 che troppa su lì non so perché e svipo madonna riuscirò tutta più forte finalmente riesce a unire bene le quipo 12 la corea presa sgrava attenzione di canazza doppia tibiter non entra non è garantito wow è goloso esatto comunque giù quattro mi sa che non può più nilo col pipistano fosse una roba già strane da 13 precisi quindi accannato di un frame 1 per le partite si fanno serie è giusto wow potrà convertire forse giochi a tutta la banca che leziano tre mostri da dare un bestie f4 di f2 non punisce f4 f3 back 1 2 non è stata bene di b4 e non può più ovviamente più vista bellissimo ma ha cambiato marcia io non so chi vincerà veramente adesso si deve rimanere un attimo ripetere coi perché ne sta trappi seguito tre bellissimo fc tre lì e svipo 4 wow l'elettrico dov'entrata non ho capito però è nato al muro peccato di b4 1 elettrico badia c2 incarnato vediamo cosa riuscire a fare coi elettrico per migliare l'elettrico a vuoto giusto così troppo troppo e svipo e le calcioni l'emozione una boccia rani 3 rani 3 e 1 4 perché si è abbassato bravo bravo ma il mind game flash l'elettrico l'elettrico e svipo non si poteva ma farà malissimo bravissimo ma non punisce attenzione c'è il muro lì riesce a scontarlo bene vediamo cosa c'è da fare sono delle drive no ha troppato la drive e svipo doppio bellissimo legate va bene così f4 madonna paurissima ho avuto giocare a muro madonna santa f3 c'era di 34 e vabbè raga l'ener chiama e vuole le tasse da pagare dragon up avanti 4 dp4 giudizio speciale e svipo scumpito dopo madone coraggio elettrico elettrico soltanto elettrici f4 dp1 pulisce vittorio 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 bravo non ci cose cani madonna era una bellissima idea nel tirare la regia di perché era a meno 8 e comunque non è stato golosa a più 8 cioè non ci credo c'è roba da pro roda madonna non c'era a più 8 e da super stan tutti sti maiali ma per me è una bella cosa nel frattempo c'è un pò di danno attento c'è un pò che blocchino vediamo cosa farà coiff ma io lo so quando deve fare jack is in the house bitches no però se lo faceva cambiare dimostrava che power più forte con quindi la corona del miglior katsuya player il sacro è in stack con germania e sul tavolo hanno tutto l'inna adesso per coiff eroe ma coiff ha la patente e quindi sapeva che succedere di f2 cannato e poi c'è il coraggio elettrico pulisce no non so che l'epilenzione è arrivata ma è così back back quattro no ci si abbassa su seconda cosa voleva fare forse vado a pulire ha tirato prima non si può pulire quello poi cosa più di me la cazza di pietro non pulisce malissimo pulisce malissimo ma wow ma chi se ne fatti di 4 come come sta tracciando quella roba ma attenzione match point per ma uo bellissima punizione f4 elettrico elettrico e qui adesso vediamo in teoria trabuno fai due asa è finita ok si ma vuole stai streaming perché deve giocare f2a cioè o bruno pure non so chi sta vincendo se f2a canna sono cacchi per la classifica fittizia perché come questo non ce l'hanno però ci sta minchia voglio non so se voglio giusti con le cuffie sono combattuta le cuffie o giochi ma non voglio comprare vediamo mauo si fa il suo meritato diposo è comunque dimostra anche se l'altra volta ha vinto coi però era stava male ovviamente quindi mauo miglior bc ma rispetto a coi non me l'aspettavo ok signori questa è la winner final Hendrix contro death adder commento sarà voce un po più alta per farmi sentire anche fuori sono accompagnato qua nel commento dal giovane snake da unicnusa tutto molto bello dimmi come inverti la camera perché inverti la camera Hendrix a sinistra no dette a destra non è il momento di girare la camera adesso è il momento che io comento guarda Hendrix a sinistra fai è in fretta guarda non ho le robe scritte al contrario dunque Hendrix Hendrix a sinistra death adder a destra e lì c'è che da fai andrei già qua stretta di mano tra i due certo c'è ma se c'è qualcuno che non sta facendo nulla e chiedi se mi ordinano un panino si un panino ordinato allo streaming ok allora siamo pronti per la winner final Hendrix sotto death adder sapete non si è mai vista questa cosa giusto qua è tutto a posto te che ha il counterato df4 df4 ancora o df3 cos'è qua vedo soltanto dello spacing dell'ottimo spacing e del poking abatto qua punizioni giuste sulla wifat ma vengono di 3-2 con le b2 che riguarda qua il taber ci ha provato niente 3-1 b2 vediamo questa è un Ft3 il perdente il perdente di questa finale andrà a sfidare Roberto ovvero tira tira vede assi ma so come volete nella loser final campo ancora db3 combo arriva muro splatta eh peccato ci ha provato del taber vs 1-2 non ho ancora visto di 1-2 contro da un po' del taber quindi naturalmente non ce l'ha visto ancora presa spezzata trottola presa 2 presa inskippabile e flotta giustissimo si porta in vantaggio lì ha fatto bene lui sperava sicuramente non lo stavo giusto fare la presa lì perchè non si fa però riparla prima e anche meglio vada tata ci prova a influire niente splattato da indy presa 1 si libera presa 1-2 accollata c'è uno blocco 1-2 e 1-1-2 per punire 1-0 per hendry contro the taber che stava in vantaggio gli chiedo scusa cosa sta succedendo c'era cosa sta cazzo cazzo cosa sta cazzo no ok ok ci siamo di nuovo chiedo scusa per i frame droppati ma erano frame inutili tanto penso che sia stato soltanto una roba dello stage Selezione dello stage cambiata Deathadder con Jack Penso che qualcuno Si sia allenato con Jack Assieme al Reaper Perché sa che la bestiana era di Hendrix Ovvero un PG che ha range Un PG che ha bassi forti E bassi deboli Ora mi sento Ok Inizia Hendrix subito aggressivo Abbiamo già un 20% di barra All'avversario Deathadder prova un full crouch 1 F4 O di F3 era poverso E no ma 2-1 Punito Senta la flash come punizione Sono away fatto Quanto mi sento potente Aumenta Dai voce Io già ne sto dando Di voce Mi sentite Giardino megalitico Mi senti Non sono dio Comunque DB1 a vuoto DB4 Eh lo so che mi sento molto Ottima punizione del whip Con DF2 Mi aspettavo un B3-1 Ma non è arrivato Presa schifata Fly Fly 4 Fly 4-1 ancora Lontano dal muro Quindi non può Non può splattare Figri D1-2 Attenti alla trap Con DF2 Ed eccola qua Sì la trap Non è solo Un genere musicale Quello penso che sia B1-2 FF1 2-1 1-1-2 Fly 1-2 Di Kazumi Un colpo medio Che è slatta Ancora Full combo Arriva a muro PG grosso Non sfrutta Tutto quanto il potenziale Della combo Va sul sicuro DF1-1 Colpo medio B3 Colpo medio Ancora Flotta Peccato Si aspettava tutt'altro Death Hunter 2-1 DB1 E questo è 2-1 Ottimo Death Hunter c'è Hawking Questa 4-4 Che entra Qua crasha Con 4 DB1 Di Jack Perché non è high crash Ricordiamo che Jack è grande Quanto un boiler Quindi Dicita da non colpire Qua si abbassa bene Ottimo Dack Full combo Io concluderei con FF1 FF4 Lì se concludi con FF1 Su commenta di trattare Ti hai fatto DF1-2 Lì ha sbagliato sicuramente Gli input E' riuscito a quello Voleva fare D1-2 E qua siamo 2-0 Per Hendrix Già giù Dica Questa partita Hendrix Che bello è come un panco La sua Bella Sì sì Hendrix Sorseggia una Coca-Cola Eh non stavo parlando Per quello Non mi sentivo 4 che crasha DF2 DF2 Che crasha Il fly DF2 Ancora a vuoto Adesso 2-1 Alto medio Alto medio Ancora a salvo The bugger The bugger Ancora a vuoto 1-2 1-2 Parato Quello è meno 14 Meno 12 DF2 Sul fly Queste sono le gioie Che ti regala Jack Sono cazumi DF1-4 Non fatto Qua ancora De bugger Ottimo 50-50 La partita Death Hunter F2 Parato Non arriva a punire con 1 Li deve tirare direttamente 1-2 Ovvero Il colpo dove parte la tigre Adesso mi diventa i men Te l'immagini Se è nella pace Di mettermi un uniforme Puoi fare Puoi fare Puoi fare Puoi fare Una cartomizzazione Di Sheerra Intanto siamo 2-0 Per Death Hunter La sveglia è arrivata E anche la lacrima Di Endrix A quanto fa 2-1 Di Death Hunter DB1 Serie di bassi Basso di nuovo Arriverà un altro basso Eccolo Arriverà un altro basso Sicuramente Adesso Basso Basso di nuovo Sì No Lo flotta Basso Rialzo 1-2 Skippa la presa Death Hunter Molto sul quals Oh attenzione Qua potrebbe fare Molto male Se arriva a muri Ci arriva QCF2 per sfondare No Reggiarti direttamente Non credo che ammate Però può dare Un po' di vantaggio Volendo Forse Non lo recupera Lì Lo sai che mi sa Che aveva Non devo dire Una bollata Però hai DF1-1 Garanti Sì perché molti Si riassono Esattamente In base Qua ad esempio Era andato molto indietro Se no potrebbe rientrare Con il F2 Sì sì Il F2 punito bene Adesso ci arriva L'addumi un PG Con le braccia Molto lunghe Per essere una donna Questo Non è sessismo Sono errori di programmazione Di 1-2 Non tirare Che ti becchi dietro Qua ancora basso Basso Arriva un altro basso Sta certo Invece arriva una presa Che è sfondare Avrebbe sfondato tutto Regalato Sì Ma fai una donna E poi sfondi Non lo so Non è stata Tutta due A me Fond Wirerunning Si mangia Metà del danno Punizione Lì di tirare Uno Tigri Ah lì ci stava Un Df2 Una punizione Con un montantino Che arriva Dalla parte Da parte Di Hendrix Full combo Arriva a muro Non ci arriva Magic Pixel Si porta in vantaggio Hendrix Qua è punibile Bastava un 1 Dp1 Dp1 Attenzione Dp1 Dp1 Attenzione Il Dp1 I passi Della vita Per vantaggio Lo sfogo L'urlo L'hanno sentito Fino a Bosa Bravo Detta Hader L'uomo Dei bassi Batte L'altro Uomo Dei bassi Una sfida Non è 50 e 50 25 e Basta Su quale Basso Fai Ricordiamo Che Dp1 Di Jack Non crash Agli alti Quindi Potrebbero Arrivare Magic 4 Come se Non ci possono Domani E te l'ho detto Che c'è Nella sede Qua dietro Tu non mi hai dato Retto Perché sei un abbetto Non è l'esperienza Questo potrebbe essere il match point per Hendrix Ricordiamo che le winner final di solito Hendrix e Deathadder durano l'ira di Dio Beh beh F1 F1 Perché Hendrix Non sa come rialzarsi Senza collarsi Qua Tirare Tadder Poteva punire Con 3-2 Non so La persona più 2 Che splatta Ma non sponda Sponda La tigre D3 D2 3 D3 Justo Sponda La tigre Cosa c'è gente che la tigre Qua si abbassa Deathadder ma non punisce Quella è una punizione un po' già strana Nel senso che si ha il tempo per tirare lo Starter ma non è facile da fare Qua bravo che non tira Aspetta il tiraggio di D3 da partiglino Spontiamo il Magic Pixel di Deathadder Fecchiato Quello cos'era? Un Df1 Giusto Qua D2 Db1 Df2 Sente un'esclamazione di Hendrix Da oltre il gazebo Ancora Running Niente Play 3 Qua punisce E non punisce invece Entra sotto play Qua splatta Dovrebbe fare super mega component Questo Qua E arriva Hendrix vince la winner final E adesso ci sarà Deathadder contro Fire 2A Sì Sì comodo Perché mi piace cancellare anche il final Comunque adesso si giocherà la loser final Tra Deathadder E Fire 2A Sono in attesa della scelta dell'atto Deathadder resta seduto lì perché è arrivata la winner Facciamo così Io direi di lanciare una monetina Vabbè dipende Questo lo possono scegliere i player In teoria soltanto la grand final Pilotata Nel senso Come scelta di Tanto cerchiamo di capire dove si sederanno I finalisti Signori Signori Chi vince questa finale Andrà a giocare la grand final Dal lato loser Perché sta risalendo la loser draft In teoria è appena scelta Quindi non ha risalito Niente Però Se vince Fire 2A Ha fatto una bella risalita Tanto mi viene richiesta Della birretta Qua abbiamo quindi a sinistra Fire 2A Tira tira Eh porca Eva Serve luce Fire 2A contro Deathadder FT3 pure a questa Ovvero chi arriva per prima tre vittorie Vai su ma fianco a me Fire 2A contro Deathadder Fire 2A del team computer point L'unico ancora rimasto in gare Deathadder piazza le cuffie Non vuole essere disturbato dal commento Bocca al lupo entrambi Tanto Fire 2A penso che abbia preso Nina in latex Mi domando chi sia la persona in piedi lì davanti Penso di sapere È Deathadder Infatti FT3 Chi vince questo va in grand final Tutto 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 Round 1 Fight Nina contro Lily Subito scivolata Sanzile DF1-2 QCF-1 Per portarsi giusto un po' il vantaggio di play Qua D1-4 Cancellato DF-3 Entra la presa 1-2 Qua in teoria se si rialza subito l'avversario oggi sta la candela Però D3-4 Qua Wake Up 3 Counter Che garantisce il combo Combo scarsa Penso che sia stato un 50 Scarsa per modo di dire Qua Fire 2A Giusta scelta Deathadder è Giant Rage Ricordiamo che Lily Ha un'ottima Rage Art Che è Rush ai bassi Ed è media Intanto 1-0 per Fire 2A Fight Ehi ragazzi si fermano un attimo Non possono schiacciare Star Ehm Non lo so Wad Wosep Dato si sentono i fici Deve si è iniziato il combo di rispote Eccolo 4 DB3 DB3 che sta a meno 13 Lanciabile con Kazuya Con Lily ma lo so Oh E ci hanno scivolato a Sub-Zero E stanno in Micidiale Può essere Flap Flap ancora E F1 più 2 Sapete Ci vuole un po' di Tecnica Per fare questa Flap Comunque Sono il WKR migliore Di Nina Dato Qua arriva Muro Ma non splatta F1 più 4 Vantagissimo Qua a vuoto Potrebbe alzare Anche con più 1-4 Ma preferisce splattare Con più 2 Non con più del combo Attenzione Lily Da BT a ottime scelte Come di Siaun Qua non arriva Muro Detader Prova qualcosa Niente Vs4 1-0 Per Fira Fira Arrivano Applausi Datader Cambierà Sì Dead Se hai problemi con le cuffie Ti consiglio di non metterli Comunque siamo 1-0 Per F2A Che prova a fare la risalita Della vita Dopo avermi sbattuto in loser Ci è finito anche lui Abbiamo dei problemi con le cuffie di dattader Stiamo provando a risolverli Penso che Le abbiamo messe nel pad Ora Ok Speriamo che a chiorata è Tader non abbia problemi Oltimo scherzoni Sperdizione Un fraluto da Federico Ragazzi posso giocare collegato direttamente alla mia update Che bello Ce l'ha appoggiata sopra Update Andre la metti in borsa in questa per favore Grazie Sì grazie Ringrazio Snake Per essere sempre presente qua Assieme All'organizzazione Per dare una mano C'è quello che c'è bisogno La gente deve sapere Ancora Lily F2A cambia vestito A me piaceva più d'altro Se lo sfatto qua non è niente male C'è questa sfida mutandina Serie di passi Entra The Tader Qua DB3 UF4 Anzi forse era UF3 Bella combo Bravo The Tader Ma sbaglia la scelta Entra in full crowd In counter Slap Arriva a muro 1 2 4 Si becca a 3 Arriverà la Rage Art E qua UF fa di nuovo Ah no Entra invece Contro di me aveva UF fatto Aveva sicurato Molto da me Cosa che fanno Death Vanno a me Comunque DF1 Qua a rotelle a vuoto Da parte di Lily Quello è meno 15 Entra la presa Presa generica 1 Questa sembrava Un F1-2 Ah Sgarra la full up Forse dovrebbe fare qualcosa Di più easy Full couch Festone 2 F2 2 F2 Molto vantaggissimo Qua Molto vantaggissimo La zecca ha lasciato Del Tader Si è fatta sulla presa Di un shabat Con questo Si è uno stringo Qua entra bene in counter Qua ci arriva Si riesce a fare comunque Buon danno Di 4 Di 4 Bestoni 1 a 1 Per Campi 1 a 0 4 E' vero Elisa Io ci speravo In Elisa Spero che non mi sta ascoltando Per 2A Perché non voglio Perfissare Akuma Akuma Giusto un po' di danno Signori Vorrei ricordare Che da fuoco Infinity Azure Che sfoltura Robin Perdi questa Consiglia Perderà di perdere Questa Per sculare Magari uno stage Con i muri Per fare realmente male Comunque Vorrei ricordare Che da poco In free play Ha fatto quasi Death combo Senza muro In questo stage Aveva giusto 2 barre Ne ha usato solo E' mezzo ricarica La gioia Del ragazzo Che l'ha subita Non è stata Passa Si parte Cambio di PG PG da 2D Akuma Che arriva da Street Fighter Inserito bene Nella sua line Di Tec Ma male Nel gameplay Male relativamente Perché comunque Il PG Non è facile Da usare Infatti Tutta questa roba Che vedete Sono tutti Link that Esagerando 3 frame Perché In Street Fighter Sarebbero Link that Un frame In Street Fighter 4 Perché nel 5 Lo dovrebbero fare DS 1-2 Ottima scelta Medio-made Medio-made Qua 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 ancora Demo flip 4 Che garantisce Dei colpi dopo Ma io non li conosco Perché non sono A come un player Anche se mi diletto Nell'utilizzo Il PG Mi diverti meno Qua Qua Su 4 Cioè questa è la combo base Di una barra Senza Non leva niente Il problema è Se parte Da un link Su Ryuken X A vuoto Spreca la barra Le dettande ringrazia Mega combo Round 3 Incluisce Tanto qua Rotelline Sembra una liquirizia Una liquirizia Aribobly Rotelle 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 Da ogni cosa Di andato Un block Non so se è posse In vantaggio Per entrare il suo lock Kick Fini combo D4 Un altro D4 Non guatterebbe Infatti arriva Ne arriverà un halo Di 3 Baratto Non punisce con rialzo Dopo qui Mi ha passato Un tazzo Un tazzo Noto come Attacche strughe Qua affara Perché deltander Non tira Non riesce a cancellare Sicuramente Lo shoryuken Deltander un po' in palla Scusate The third round Un po' in palla Non corre Shoryuken X Sotto frame Mangia tutto Combo easy Easy Per sempre Relativamente Parlamo Ma Se bisogna dare Comunque A chi lo usa Merito Perché non è Non è facile Vincere Non è possibile Claudio Doffis O la chi Ovviamente Con i pg Usa quello Quello alto Basta tirare QS4 4 E lo spacca Tutti Combo Non leva Molto Ma prova Un po' con l'altro C'è con un medio D4 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 di nuovo D4 ancora No Aduker Qua steppa Benissimo Scandalata E cazzo Troppa la combo Arriverà un altro passo Sicuramente adesso Eccolo qua D4 Basso di nuovo Adesso Avevo perso la frecchetta Chiedo scusa 12 1 a 12 12 12 12 12 12 12 12 Elisa In bikini Bocce Ma che imparentate Una lancia Rebuken Pinti L'altra per la testa Oltre le 5 Bello Elisa La fireball è la stessa Rebuken Tanto che si blocca Stage aperto Ste PG con le barre Che non possono essere Utilizzati al meglio Schiocco di ditta Da parte di Elisa Ma vabbè Seguardo Di Dittà Round 1 Fight Tanto stanno su Madonna Quanto stanno su Stuma Che potrebbe distrarre De Tater Qua Schippa la presa 1 più 2 Finalmente Darkwave Qua punisce Con un full crouch Elisa La differenza Di Akuma È ultra Mega punibile Però Fa fare Questi cazze E ha una presa 1 più 2 Che puoi alternare All'epresa normale Può fare un po' più Di mindgame Anche se no Va a fare La rage drive Si accolla Gli schiaffi Non se li accolla E l'abbè stato Un po' bello Strega Non punita bene Oh Un counter Abbastanza danni Ancora una barra Potrebbe ricaricarla Tira La supera Votissimo Schippa La presa 1 più 2 De Tater Sta buttando Di quella presa Lì non tira Bravo Attenzione Quella non viene punita Dovrebbe essere Forse non c'è Arriva lì Ma ascolta bene La barra Arriva Questa qui Ma dovevo uccidere L'ha tirata Mentre prima Mi aspettavo 3 2 E poi Rage hard Che di subito Rage hard Che di subito Oh Doppio shoryu Entra la super Super un imparabile Chiamatela come vuole Un imparabile Mini combo Robi usa Soltanto personaggi Che hanno Ciccolate L'up San zero Le waifu Di Fire 2A Ancora Rosa Lex Per essere safe Vado E Tater Si abbassa bene Ancora Combo Bella Massimizza L'altro Che non viene punito Bazzata Ancora L'aspazzata Se non voglio Bazzata Ancora Spazzata Darkwave Spazzata D4 Cioè D3 Darkwave Megoglioni Complimenti Fire 2A Le bocce Della vita Sono servite Questa ce la godiamo Tutta Signore 2 a 2 Chi vince Questa 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 Va in grand final A sfidare Hendrix Che ha vinto Anche L'altro Summer Clash In finale Con Fire 2A Entra bene Cancello un paio di step Non punisce bene Le Tadder Non so come non abbia fatto a punire quel qui Scandella Giusta La sterpata Lì Giusta Quella sterpata Un paio di step Uno due tre In realtà E' molto più aggressivo Un paio di step Devo fare il suo ritmo Un paio di 2A Vedi Lì a difesa Se avessi avuto Akuma Avrebbe fatto Non ci vedo Che è normale Che è l'altra Con el'Aida Non può fare Però finalmente Si si fa sicuro Con el'Aida Summer 2A Ancora Darkwave Cheap damage Basso ancora Da BT Blocca la stringa Candela a vuoto Punita malissimo Il poking Di fire 2A Che tra chip damage E link E tini Porta via comunque energia Ancora Deco me la frecce Si fa la presa Qua lancia Potrebbe uccidere Infatti uccide Bravo Fire 2A Bravissimo Guarda che belle voce Guarda che belle voce Per 2A Sul pezzo Sfrutta bene Barra E rage Guarda Giusto il rialzo Da parte di Death Hunter DF3 Scivolata Basso ancora Basso il counter Basso ancora Ne arriverà un altro? No Arriva La solita presa Schifata Punizione perfetta Sgarra la combo Attenzione al magic pixel Alla barra Madonna Sembra Chanel Quando fa così Ottima scelta Lì è salvo Non tira in mezzo La stringa Il basso Di Death Hunter Accompagnato Sempre dall'urlo Liberatorio Imparabile Sloth Va a fare a poco Ma oddio Va anche a bene Quel colpo è safe Crash all'alto In counter Giusta scelta Magic pixel Per Death Hunter Attenzione Li fa dietro Madonna Signori Questa qui È una finale Che doveva essere Una grand final Va a vuoto Con la barra Basso ancora Si sta Collando L'imparabile Non so cosa DB4 Flota bene Con la rotella Non arriva Lo screw Ancora Barra a vuoto Per i 6 Non si abbassa Basso Basso Candela Punita Ottimo Caccato Lì poteva punire Qua flotta Death Hunter Attenzione Perché in rage Potrebbe fare qualcosa Sgarra una cosa Qua è ancora safe Vede che funziona Questa tattica Per due Altri Può startare E va a vincere Con la stringa garantita 2-2 Un applauso A Eliza E un applauso Per due Che va a giocarsi Questa grand final Contro Hendrix Adesso dovrò Cambiare Penso che Hendrix Giochi A sinistra Ed è Tadra A destra Intanto Fire 2A Un po' di libertà Stranamente La finale È Fire 2A Hendrix Non è la prima volta Che succede Arrivo Andre 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 Mi si vede una Tocco Non riesco a capire Che ti stacchiamo E' la prima volta Che ti stacchiamo Che ti stacchiamo Che ti stacchiamo Salve salve Allora, comunque, sto aspettando di sapere se per già sto a sinistra I signori Hendrix e Robby Ferdua sono pregati di andare alla cassa qua Alla prossima 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 Ottima Alla prossima Alla prossima Grazie mille